a tutti e a tutti e ringraziamento ai miei personali di tutto il Dipartimento che ho l'onore di dirigere per essere qui stamattina in questa occasione importante. Prima dirò solo una cosa, è un'occasione importante non solo perché è un seminario che rende omaggio a un collega illustre del mio Dipartimento, della mia Università che ha lavorato per molti anni in Università di Siena ma anche un omaggio a un carissimo amico dal quale siamo con Andrea Messeri, l'inizio era, abbiamo lo stesso maestro, il maestro è un comune perché il suo e il mio maestro mi ha laureato in filosofia, sono un filosofo, era Paolo Rossi e quindi ci legava anche questa appartenenza da un punto di vista filosofico alla stessa scuola. Io ho voluto all'epoca, ero il preside di facoltà a Arezzo e ho voluto fortemente che Andrea si trasferisse da Siena alla sede senese perché era un progetto importante per tutti noi nell'ambito della sociologia. Mi fermo qui, grazie di nuovo a tutte e a tutti e aspetta la parola al magnifio rettore dell'Università di Siena, professor Francesco Frati, che ringrazio per essere qui con noi. Prego Francesco. Grazie, grazie Ferdinando, grazie direttore, un saluto carissimo a tutti voi, un ringraziamento particolare al direttore del Dipartimento, alla professoressa Bianchi, a tutti coloro che si sono adoperati per rendere questo incontro possibile. Ricordo di averne parlato con Francesca molto tempo fa e purtroppo la pandemia ci ha costretto a rimandare continuamente questo evento fino a costringerci per non rimandarlo troppo, a tenerlo con questa modalità che magari un anno fa ci sembrava oscura e adesso ci siamo tutti abituati. Sono convinto che nonostante il dispiacere di non poterci vedere in presenza comunque sarà un momento importante di riflessione utile per tutti per riflettere sull'insegnamento che ci ha lasciato Andrea Messeri. Fatemi iniziare con una riflessione personale per come io ho conosciuto il professor Messeri. Come sapete, forse anzi non siete tenuti a saperlo, io mi occupo scientificamente di cose completamente diverse e lo ammetto fino a dieci anni fa quando mi fu chiesto dall'allora rettore Riccaboni di partecipare alla sua avventura al rettorato dell'Università di Siena con la carica di vice rettore di pro rettore Vicario. Non conoscevo il professor Messeri e onestamente concentrato come ero sulle questioni del mio piccolo mondo scientifico mi interessavo anche poco delle tematiche che invece il professor Messeri molto opportunamente e devo dire con grandi risultati che mi portavo avanti. Poi da pro rettore Vicario è venuto a trovarmi e ho trovato un uomo ovviamente un uomo di una certa età ma la cosa che più mi colpiva era trovare in una persona ormai diciamo così a fine carriera accademica ancora un incredibile slancio a cercare, a ricercare l'innovazione, ad occuparsi, a cercare di vedere quello che avrebbe potuto essere il futuro nell'innovazione didattica ovviamente che è il suo grande, che era il suo grande tema e più in generale nella ricerca di quello che adesso poi è diventato il titolo di questo incontro, un nuovo paradigma per l'educazione. Ecco forse la cosa che più mi colpiva era questa energia, questo entusiasmo sempre proiettato verso l'innovazione, verso la novità. Per questo ho un carissimo ricordo del professor Messeri e per questo io credo che il primo tema su cui credo di dovermi soffermare in questo mio brevissimo saluto è proprio quello dell'innovazione didattica. Quando poi mi sono occupato ovviamente, mi sono dovuto occupare anche dal rettore delle questioni che riguardano l'intera università, la riflessione che ho sempre fatto è che tra le tante attività di missioni degli Atenei, mentre la ricerca è per sua natura innovativa, nella didattica occorre proattività da parte dei docenti affinché si possa cambiare il paradigma per l'educazione, affinché si possa cambiare il paradigma per la didattica. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno, riflettendo anche sulle attività didattiche e su come svolgiamo la nostra attività didattica, abbiamo bisogno di idee per cambiare il modo con cui ci interfacciamo con i nostri studenti. So bene che spesso incontro colleghi che magari per pigrizia adottano sempre gli stessi modelli formativi, ma ho grandissima stima e veramente invidia per tutti coloro che invece si sforzano di introdurre all'interno delle loro attività formative elementi innovativi. Io credo che questa sia la vera sfida dell'università di questo periodo, anzi era già la vera sfida dell'università degli anni precedenti e lo diventerà e lo diventa ancora di più alla luce di quanto è accaduto in questo anno e mezzo, perché l'università post-covid non potrà prescindere da una riflessione seria sulle modalità di somministrazione, passatemi questo bruttissimo termine, dell'attività formativa degli Atenei. Credo che l'emergenza covid ci abbia ancora di più avvicinato a quel passo necessario che le università e tutti i docenti singolarmente debbono fare per innovare i loro modelli didattici. C'è un elemento di speranza in questo senso, l'elemento di speranza è dovuto al fatto, perlomeno nella mia mente, che in questi ultimi anni c'è stato un profondo rinnovamento del corpo docente. Certamente qualcosa che non avevamo visto nei dieci anni precedenti, a seguito voglio dire, del blocco del reclutamento, del rallentamento del reclutamento avvenuto post-legge 133 o post-legge Germini, a seconda di come vogliamo guardare. Questa mattina stavo riflettendo su un numero, negli ultimi cinque anni si sono succeduti piani straordinari di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo B, per un totale, se non ho fatto male i conti, di circa 9 mila posizioni. Ora 9 mila persone sono più o meno 16, 17, forse 18% dell'intero corpo docente dell'Ateneo, in cinque anni degli Atenei italiani. In cinque anni il corpo docente degli Atenei italiani si è rinnovato di qualcosa vicino al 20%, una cosa che non era certamente successa nei dieci anni precedenti. E questo significa che noi abbiamo a disposizione, anche qua passatemi il brutto termine, materiale umano disponibile, molto più pronto di noi, abbiamo già una certa età, a rispondere anche alle sfide dell'innovazione. Ecco perché è importante in questo momento concentrarci anche sull'innovazione didattica, facendolo perché no, sulla scorta dell'insegnamento che ci ha lasciato Andrea Messeri. Qui all'Università di Siena noi ci siamo impegnati negli ultimi anni, grazie anche al lavoro dei colleghi del Dipartimento di Scienze della Formazione e della Comunicazione Interculturale di Arezzo, ci siamo impegnati sostanzialmente su due principali linee tematiche. La prima è quella dell'introduzione e dell'aver concentrato i nostri interessi sulle cosiddette soft skills. Abbiamo addirittura istituito un soggetto ad hoc, il Santa Chiara Lab, come luogo dove gli studenti di tutte le discipline possono incontrarsi, condividendo le proprie esperienze reciproche, e aiutandosi reciprocamente ad arricchire i propri curricula di competenze che non sono necessariamente le loro strette competenze disciplinari. Peraltro la recentissima riforma varata dal Ministero con il DM 133 del 3 febbraio scorso, che allenta i vincoli sugli ordinamenti didattici e consente anche agli stessi studenti o alle università di arricchire il percorso formativo degli studenti di elementi innovativi, di elementi appunto trasversali e che possano rafforzare la conoscenza e ancor più che le competenze dei nostri studenti. Il secondo strumento che abbiamo adottato è quello che abbiamo chiamato Teaching and Learning Center, un luogo incardinato all'interno del Santa Chiara Lab, dove noi organizziamo iniziative finalizzate alla formazione continua dei docenti, affinché l'avanzamento delle conoscenze sui temi dell'innovazione didattica possano essere messi a disposizione di tutto il corpo docente dell'Ateneo, indipendentemente dalle discipline, dai dipartimenti, dalle facoltà. Il risultato del Teaching and Learning Center, portato avanti dalla professoressa Fabri e dai suoi colleghi e colleghe, che ringrazio qui, è che molti docenti si sono avvicinati agli esperimenti, alle esperienze del Teaching and Learning Center, contribuendo così a creare all'interno del nostro Ateneo un corpo docente più aperto, più innovativo, più disponibile ad accogliere anche le novità della innovazione didattica e quindi più pronto a rispondere alle esigenze dei nostri studenti. Io mi fermo qui, anche per non togliere ulteriore tempo alla discussione, saluto veramente nuovamente tutti, ringraziando tutti voi per esserci e non so quanto mi potrò trattenere ad ascoltarvi per alcuni impegni che mi porteranno via, ma veramente grazie ancora a tutti coloro che hanno avuto l'idea di organizzare questo seminario di studi e soprattutto a tutti voi che avete accettato il nostro invito a parteciparvi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Rettore per il saluto e per le riflessioni, consentitevi di dare un brevissimo saluto a Luigi Berlinguer che è con noi. Saluto a cui mi associo anch'io. Mio primo Rettore Senese e do la parola al Professore Antonio Felice Uricchio per il suo intervento che ringrazio per la partecipazione. Prego. Grazie, grazie per l'invito. Un saluto al magnifico Rettore Francesco. Comunque abbiamo lavorato insieme molti anni anche in Cruyel, al Presidente Berlinguer, sono felice di questa occasione anche perché in questi anni abbiamo lavorato parecchio anche insieme in Geo e il merito di Geo in questa organizzazione dell'evento odierno è sicuramente da segnalare. Quindi un vivo ringraziamento a Marisa per la sua attività e a tutti i colleghi che sono qui coinvolti, vedo tanti e devo dire che sono onorato di essere stato cooptato in Geo e adottato ancora prima del mio impegno in Anvur e naturalmente Geo è stata anche questa straordinaria Gorà che ci ha consentito di elaborare progetti, di mettere a fuoco anche tante iniziative di carattere città. Io ho conosciuto Andrea proprio all'interno di Geo, e quindi per me è veramente un momento di commozione poterlo ricordare attraverso questo convegno e ovviamente piangere la sua assenza. Avremmo voluto che fosse con noi a confrontarsi, a discutere, a riprendere i temi che ci hanno visto impegnati a lungo in questi anni, in particolar modo il tema dell'innovazione didattica, il tema anche dell'impatto sociale, e anche dell'attività di docenza, di didattica, a cui noi guardiamo con particolare attenzione. E anche ora che ho raccolto anche questo impegno di Anvur, ora il presidente dell'Anvur, devo dire che questa attività di valorizzazione dei percorsi innovativi della didattica è stata fortemente anche ripresa e potenziata. Grazie anche agli stimoli che Andrea ci ha offerto costantemente, ai suoi preziosi insegnamenti, stiamo cercando di portare avanti anche una progettualità che ci vede impegnati, Anvur, con Geo, nel valorizzare anche le esperienze migliori, anche di carattere didattico. Stiamo rivedendo le linee guida di Ava3, come saprete il primo ciclo di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei si completa nel mese di luglio e vedrà coinvolte tutte le università italiane, ormai ne mancano soltanto quattro perché il ciclo si è completato. Stiamo elaborando anche le nuove linee guida attraverso anche alcuni principi forti, la piena compliance rispetto agli ESG europei, agli European Standard Guidelines, quindi ai criteri anche di valutazione della qualità delle istituzioni accademiche che a livello europeo sono state formulate. Stiamo cercando anche di promuovere un modello anche semplificato che alleggerisca gli oneri degli Atenei, avendo anche vissuto l'esperienza di università visitata nel mio periodo di rettorato, so bene quanto sia onerosa anche per gli Atenei la preparazione della visita. Noi vorremmo rendere la visita anche più leggera, anche in termini di adempimenti, e proficua. E quindi anche nell'elaborazione delle linee guida la parte, tra virgolette, delle raccomandazioni, cioè le segnalazioni su come migliorare anche le policy che gli Atenei mettono in campo in favore degli studenti sarà la priorità rispetto anche al momento, tra virgolette, dei voti che invece ha polarizzato l'attenzione delle istituzioni valutate in questo primo periodo. Tutti questi principi che abbiamo ampiamente discusso all'interno di Geo e che, devo dire, proprio Andrea ha fortemente anche evidenziato nel confronto costante che abbiamo avuto. In particolar modo poi anche attraverso alcuni temi forti che stiamo cercando di portare avanti anche nella nostra esperienza, come l'educazione e la cittadinanza, come la valorizzazione anche della consapevolezza degli studenti, questi temi ci hanno visto fortemente anche coinvolti e la guida, il presidente Berlinguer, di Marisa e di tutti gli amici che sono qui coinvolti, di Roberto, che è sempre molto attivo anche nelle iniziative che stiamo portando avanti anche in questo periodo, che dovrà essere anche necessariamente ripreso. Quindi il testimone che Andrea ci ha affidato, ecco noi siamo pronti a raccoglierlo, siamo pronti anche a portare avanti anche i suoi preziosi insegnamenti e farlo con questo spirito che ci accomuna, la passione, la volontà di poter essere utili ai nostri giovani, di farlo appunto con questo modello dell'università di servizio che costituisce per noi una priorità assoluta. Io oggi non riuscirò a seguire la seconda parte della giornata, quella della tavola rotonda a cui poi parteciperà la dottoressa Sabella per il mio conto di Amvuri, in quanto presentiamo col Ministro Messer, col Ministro Stefani, il primo rapporto che Amvuri ha curato sugli studenti con disabilità. È un'esperienza nuova che ci vede impegnati come Amvuri, una riflessione, una ricerca, un'analisi, ma anche poi delle indicazioni che vogliamo offrire ai decisioni politici perché il diritto allo studio possa essere effettivo per tutti gli studenti, quale che sia la loro condizione e in qualunque contesto territoriale. è un impegno che so che Andrea avrebbe sicuramente raccolto e quindi vi chiedo scusa se non riesco a seguire tutta la giornata, ma desideravo essere presente e testimoniare anche con queste parole il mio affetto per Andrea, per la sua famiglia e ringraziamento per il lavoro fatto insieme che sono certo non andrà disperso. Grazie a tutti. Grazie Presidente dell'intervento e dei saluti e ora la parola a Sara Messeri. Grazie Professor Abbri. Buongiorno e un caro saluto a tutti. Per me è davvero un grandissimo piacere essere oggi qua tra voi, anche se purtroppo a distanza. Vorrei innanzitutto ringraziare il magnifico rettore Professor Francesco Frati per le belle parole spese per mio padre. So che mio padre ha collaborato a lungo con lei e che nutriva per lei una profonda stima, quindi grazie per la sua presenza e per aver permesso questo evento. Ringrazio anche il Professor Uricchio per il caro ricordo di mio padre e un ringraziamento particolare al Direttore di Dipartimento il Professor Ferdinando Abbri e agli organizzatori di questo seminario la Professoressa Francesca Bianchi il Professor Roberto Moscati e la Professoressa Marisa Michelini in qualità di Direttrice di Geo che mi hanno costantemente e gentilmente aggiornata sull'organizzazione di questo evento. Un ringraziamento particolare per la sua presenza al Professor Luigi Berlinguer già Rettore dell'Università di Siena e già Ministro dell'Università e della Ricerca il Professor Berlinguer ha spesso ricercato e voluto la collaborazione di mio padre conferendogli anche incarichi istituzionali e per mio padre è stato un importante punto di riferimento e anche un amico carissimo. Comunque voglio ringraziare tutti i relatori di questo seminario perché è un evento che coinvolge molti colleghi di mio padre colleghi ma soprattutto amici che lui stimava molto e di cui mi parlava spesso con grande affetto. Per me è un regalo poterlo ricordare in questi giorni a un anno dalla sua morte in questo modo, cioè ascoltando le vostre riflessioni su idee, temi e progetti che lo hanno stimolato e interessato fino agli ultimi giorni della sua vita. Per il babbo scrivere il suo ultimo articolo è stato veramente un obiettivo importante, uno stimolo, anche una motivazione ad affrontare la malattia e il percorso difficile della cura. Quindi sono sempre stata consapevole fin da piccola del grande impegno di mio padre per l'università, per gli studenti e in generale per lo studio e la ricerca che poi hanno dato vita a tante iniziative insomma in varie istituzioni e a tanti progetti. sicuramente il più amato Geo che la direttrice Marisa Michelini porta avanti con grande impegno e colgo l'occasione per dare un caro saluto a tutti i colleghi di Geo e li ringrazio per la loro presenza. Gli interventi che ascolteremo stamani sono relativi a temi sui quali mio padre ha riflettuto a lungo con molti dei relatori quindi sarà interessante ascoltare queste nuove idee e prospettive che nel frattempo sono state elaborate appunto per un nuovo paradigma per l'educazione e quindi vi ascolterò con molto interesse e passione come sono sicura avrebbe fatto mio padre e scusate l'emozione consapevole che ascoltando i vostri interventi nelle vostre riflessioni sto anche ascoltando in parte la sua voce grazie a tutti un buon lavoro grazie grazie Sara poi ti racconterò cosa mi disse una volta da presi io ero preside del tuo padre che fu una cosa molto carina allora cominciamo dopo i saluti questi interventi autorevoli e prestigiosi cominciamo la prima parte io come tutte le persone che sono chiamate a presiedere raccomando ai colleghi agli illustri colleghi i colleghi e colleghe il rispetto dei tempi in modo da consentire uno svolgimento ordinato di tutta la mattinata credo che la parola aspetti a Luigi Berlinguer per il suo intervento su educazione civica e cultura politica prego Luigi Luigi devi accendere il microfono hai il microfono spento si sente il microfono è acceso si 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 sente ti sentiamo prego voi me lo date ricevuta benissimo quello che voglio dirvi e ripercorrere alcune considerazioni che sono in parte autobiografiche essendo io stato professore all'università di Siena tutto sommato lo sono ancora ancorché pensionato e insieme rettore dell'università di Siena e devo dire rettore per nove anni e mezzo cioè una vita e però sono molto contento di dire quello che sto per dire sulla particolare sulla figura di Andrea Messeri perché quando io ero rettore all'università di Siena l'insediamento a rettino tra virgolette dell'università di Siena oltre a suonare cacofonico perché sembrava quasi sottolineare una subalternità nella mente di taluno particolarmente senese di Arezzo nei confronti di Siena non si rendeva conto che in quel momento la storica centenaria università di Siena nessuno glielo può togliere questo il suo rilievo nell'orizzonte accademico nazionale e anche questo però portava all'essersi diffusa una considerazione in base alla quale l'università era l'università di Siena Arezzo aveva cominciato ad avanzare esigenze di introdurre corsi universitari nella sua città e naturalmente questo poteva avvenire attraverso l'introduzione di corsi universitari dell'università di Siena sede di Arezzo io ero rettore lo sono stato nove anni e mezzo e non mi nascondo con una punta di orgoglio perché il mio rettorato il rettorato è stato nella mia biografia intellettuale ed accademica è una cosa di rilievo io sono stato anche professore nell'università di Sassari preside di facoltà in quella sede nella mia città natale però la mia biografia accademica è essenzialmente se non quasi esclusivamente inserita nell'università di Siena che veniva vantando gloriosamente la sua centenaria esistenza e che veniva vantando naturalmente il rilievo che essa è venuta assumendo nel novelo dell'Accademia italiana mi sto introducendo alla psicologia di quando un giorno andrì a Messeri con cui avevo un minimo di dimestichezza più per ragioni politiche che accademiche perché lui si interessava di politica aveva delle posizioni eccetera mi si avvicinò mi prese per un braccio e mi apostrofò come talvolta lui usava fare essendo un uomo diretto molto diretto probabilmente tutti coloro che qua l'hanno ben conosciuto sanno cosa vuole dire con questo franco e mi apostrofò in senso gentile del termine però risoluto come se avesse un fardello che mi voleva comunicare il fardello era che nell'Accademia Arezzo era in provincia di Siena e viveva questa diminuzio questa caratteristica per cui l'Ateneo olimpico era Siena come una lunghissima età aveva dimostrato chi lo può mettere in dubbio e l'appartenenza di tutti noi ovunque esercitassimo una funzione era l'Università di Siena e quindi Arezzo era una provincia era una città provinciale della provincia superiore di Siena così vissuta e io ero rettore a Siena e quel giorno lui mi dicevo mi apostrofo poteva farlo perché avevamo dimestichezza e poi anche un minimo di congenialità politica e quindi mi poteva proporre un tema sia come accademico sia perché noi potevamo discutere in modo diretto politicamente della cosa questo è ciò che ricordo di più del modo in cui la mia frequentazione di Andrea e la nostra amicizia si era andata consolidando in quel periodo ripeto io ero pure il rettore di Siena e quindi ero rettore anche di Arezzo e e questo significava anche una cosa che voi tutti comprendete al volo che la forza centripeta dell'Università di Siena era Siena grazie anche alla sua gloriosa storia centenaria a quello che l'Università di Siena in quanto tra l'aveva significato nel novelo dell'Accademia Italiana e Andrea che era un uomo spiccio qualche volta leggermente rude ma che sapeva di poterselo permettere per via del nostro rapporto di amicizia e apostrofò e cercò di farmi capire che un'affermazione come quella che sto per dirvi sconvolgeva l'orizzonte di quella parte della Toscana perché era fondato sull'idea tipicamente dell'Accademia Senese e di Siena che Arezzo era in provincia di Siena ma in provincia non per la distribuzione delle sedi dell'amministrazione provinciale ma così Arezzo era una dipendence come dire era una cosa che dipendeva da Siena non che dipendeva solo dall'Ateneo Senese ma da Siena così e questo voi potete capire benissimo perché esercitava un'attività che era in prevalenza accademica ma anche politica in quei territori sconvolgeva l'orizzonte politico di quei territori perché niente vieta a dire che Siena è uno dei punti nevralgici della storia d'Italia era un Ateneo che si è manifestato ed è cresciuto centenario nella storia dell'Accademia italiana però Arezzo non poteva essere considerato un appendice un appendice e lui aveva in mente la volontà di dirmi tu sei il rettore di Siena tu sei il senese un po' spurio veramente perché io poi sono nato in un'isola nel mezzo del Mediterraneo però il mare di Siena però vivevo ormai a Siena consolidato però tu non puoi pensare siccome sei senese chiarezza chiarezza è in provincia di Siena ora perché ve lo racconto così perché noi parlavamo con estrema franchezza e lui io perché lo stimavo e non potevo non ascoltarlo Andrea perché perché lui era profondamente convinto delle cose che diceva ed era capace di motivare con la stessa ragionevolezza ed energia un ragionamento accademico con un ragionamento politico e mi disse quindi tu puoi capire benissimo noi viviamo male ad Arezzo come provincia di Siena e quindi come sede accademica che pure è nata dopo che pure è nata per filiazione in certi modi che pure ha cominciato aprendo corsi e poi consolidandoli eccetera eccetera però insomma tu sei rettore adesso tu ci devi aiutare a dare dignità a questa sede a retina ecco lo ricordo così Andrea poi questo era consentito dal fatto che noi avevamo conoscenza di mistichezza scambio di opinioni iniziative comuni eccetera ma questa caratterizzazione della localizzazione a retina lui la ebbe modo di prospettarla come qualcosa che sottolineava fortemente l'autonomia di Arezzo in quanto sede universitaria nei confronti della sede sensi progressivamente una quasi compartecipazione alla pari ecco allora io penso che voler parlare oggi di Andrea Messina e del fatto che lui ha avuto un ruolo nella storia delle nostre università un peso perché ci portava una intelligenza accademica e una preparazione accademica come si deve ma contemporaneamente aveva una sensibilità politica tale da poter affermare questa tematica per i risvolti che presentava e questo in fondo è stato il clou a questo si aggiunge un'altra considerazione che poi è da considerare all'interno del ragionamento che ho fatto ma con una sua specificità e cioè che questo risvolto della faccenda il rapporto sia in Arezzo la nascita ad Arezzo di un nucleo universitario all'inizio un po' sgomitando e poi affermandoci pleno iure e per la dignità complessiva dell'attività che gli si svolgeva e che proponeva al rettore di quell'ateneo che ricomprendeva entrambe le sedi di rispettare la dignità accademica e scientifica dell'insediamento aretino che non era solo un insegnamento aretino deriva dal fatto che questo rientra nella novità principale della storia universitaria italiana cioè l'affermarsi dell'università di massa l'affermarsi dell'università non più come una ristretta elite di intellettuali di accademici di studiosi prevalentemente di studiosi non di didatti che però all'inizio l'università di massa ha vissuto e un po' continua a vivere una sofferente una sofferenza derivante dalla cultura di una parte del mondo accademico quella parte che si considera gli studiosi e non gli insegnanti e c'è stato e c'è stato un difetto della formazione del corpo scientifico dell'università italiana di massa che divenendo tale però si è portata con sé il retaggio di una filosofia politica dei componenti del corpo docente che ha teso per un certo periodo anche abbastanza lungo a sottolineare l'assoluta prevalenza scientifica nei confronti del compito didattico al punto che io nella mia vita accademica nella mia vita direttore di direttore di impartimento in Sardegna di preside ho vissuto anch'io direttamente questo problema e cioè che pensino involontariamente indirettamente noi ci valutavamo all'interno del corpo accademico come gli studiosi e soprattutto per quello che come studiosi rappresentavamo qualcosa nel corpo accademico e lo svolgimento dell'attività didattica era come dire un affannaggio doveroso nelle nostre discussioni c'era modo di dire senti scusa un momento io faccio un attimo un salto faccio lezione e torno e continuiamo questa discussione scientifica vado faccio lezione e torno ora io vi sto citando episodi il corpo docente non è così oggi forse non lo è mai stato così però non c'è dubbio che nella formazione del corpo dei sapienze degli studiosi dei componenti appunto il corpo scientifico del paese il primo problema è per esempio nel reputamento di verificare i titoli scientifici prima di tutto anzi all'inizio non esistevano neanche titoli accademici esisteva l'esperienza accademici esisteva il curriculum ma l'esercizio dell'attività scientifica l'aver dato contributi nel campo dell'incremento della scienza come studiosi quindi la propria legittimazione a entrare nel corpo docente era entrare nel corpo scientifico di un Ateneo io adesso non voglio dire che dobbiamo capovolgere la situazione perché lungi da me assai lungi da me il sottovalutare che la corposità scientifica del docente è essenziale senza la quale non può venire a insegnare all'università uno che non ha un suo corpo scientifico robusto ma detto questo sono invece convinto che se noi vogliamo affermare dignitosamente l'università di massa cioè un allargamento dell'accesso universitario ai nostri ragazzi un allargamento quantitativo e quindi qualitativo se vogliamo affermare questa novità dobbiamo tener conto che va rafforzata oltre alla solidità scientifica del suo corpo appunto scientifico il corpo che chiameremo docente ma è prevalentemente scientifico va rafforzata anche va rafforzato il rilievo dello svolgimento dell'attività didattica e il rilievo nella formazione di quel personaggio che diventa insieme studioso e docente ecco e Andrea Messielli che appunto mi apostrofò e come lettore mi chiamò eccetera e che voleva lì scrollarsi di dosso per l'insediamento aretino degli studiosi che erano membri dell'università di Siena questa caratterizzazione di provincia è più redente della fondamentale provincia accademica di Siena ecco lui me la propose anche con una qualche ruvidezza come era lui come dire guarda tu sei rettore però c'è un peccato che hai un'esperienza politica che altri rettori non hanno avuto che hai una sensibilità e una conoscenza del territorio perché sei non puoi andare ad Arezzo dicendo io sono serese devi andare ad Arezzo dicendo io vengo qua per l'università di Arezzo anche se non era solo di Arezzo e allora lui aveva è stato in grado perciò io lo ricordo per tante ragioni ma soprattutto per questa sua capacità di spaziare nel mondo accademico e nel mondo politico o della vita ordinaria a un certo livello ecco ed è così che mi piace ricordarlo per questa sua poliedicità e per questa sua intelligenza per questa sua intelligenza così ampia perché poi scusate chiedo scusa anche perché poi lui svolgeva un'attività complementare di natura politica aveva interesse aveva sensibilità e quindi era aperto all'arricchimento di questa formulazione ecco devo dire che nel mondo accademico e lo dico perché è presente Marisa Michiel che invece ha avuto su questo terreno un ruolo internazionale non solo italiano per noi che avevamo sensibilità sulla necessità che l'attività accademica universitaria fosse curata anche sotto il profilo della docenza della didattica e non solo sotto il fondamentale profilo scientifico noi che avevamo questa sensibilità sappiamo che affermare il rilievo della didattica nell'università è stato un cammino non facile che aveva delle insensibilità di fronte che andavano superate non si può considerare e non come si in parte si faceva allora come un compito non primario tanto è vero che io ho conosciuto illustri docenti che non erano docenti che si interessavano prevalentemente delle proprie ricerche illustri e che andavano facevano lezione tornavano consideravano quell'attività che pure didattica che pure un'attività fortemente intellettuale a forte tasso di responsabilità scientifica nel campo della didattica e che lì si investirevano a dire ma cosa scientifico la didattica la didattica è la didattica e alcuni di noi a sostenere guarda che tu devi affrontare scientificamente il problema didattico perché sei un accademico sei uno studioso sei di mestiere uno studioso e anche quando imposti e svolgi l'attività didattica devi dare ad essa un rilievo morale e politico della sua scientificità dell'essere parte integrante dello svolgimento dell'attività di studioso ed il professore all'università perché ho ricordato Marisa Michelini perché Marisa in questo campo e con questa proiezione scientifica della funzione didattica e quindi totalmente assunta dal docente dallo studioso nello svolgimento della sua funzione nella definizione della propria fisionomia che ha le due anime le due facce le due componenti nessuna delle due da trascurare eccetera dicevo Marisa è riuscita a vincere una battaglia nazionale non soltanto senese o toscana nella quale è stato nazionalmente riconosciuto particolarmente alle sue iniziative il rilievo che dovevano avere e quindi ed è abbastanza recente anche se non recentissimo questo risultato riuscire a investire l'accademia nazionale l'università italiana non solo quella di Siena e di Arezzo ma investirla ad un livello di prospettazione della tematica strategica del fatto che bisogna ottenere nell'attività che noi svolgiamo dentro le università il rilievo necessario perché la didattica diventi un'attività fondamentale e venga organizzata con lo spirito non di tenere un corsetto di lezioni ma di penetrare l'attività didattica della sua corposità intellettuale prima di tutto e corposità scientifica perché noi dobbiamo elevare il tasso di consapevolezza culturale dei nostri studenti e una volta giungano gli onori accademici diventino professori o altro devono aver assorbito questo bagaglio tu sei all'università tieni corso e nel momento in cui tieni corso tu duegli una funzione che ha una forte pregnanza intellettuale proprio perché deve essere condotta con spirito scientifico e con riconoscimento della validità scientifica di quello che volevi che avevi in mente di ottenere ora scusa Luigi grazie ti prevede di arrivare alla conclusione ecco guarda che io ti ho preceduto perché sono arrivata alla conclusione prima che tu interrompessi non lo sai quanto si interrompe una cosa e continua invece la mia per fortuna vostra non continua più hai finito ti ringrazio molto per questo intervento che come io ho fatto il preside come sai per dieci anni di Arezzo mi hai chiamato tu come rettore ad Arezzo e so benissimo quanto tu ci hai raccontato sia stato e sia importante per uno che come il mio caso ha fatto il preside per quasi dieci anni nella sede di Arezzo e ha trasformato la facoltà grazie di cuore Luigi e la parola a Francesca Bianchi per il suo intervento unità dei processi educativi e centralità degli studenti grazie direttore io intanto do il benvenuto a tutte ringrazio il rettore ringrazio ovviamente te per aver voluto fortemente questo seminario e ringrazio i relatori quelli che sono intervenuti quelli che interverranno dopo ringrazio il presidente Anvur ringrazio Sara Messeri per le sue belle parole e vorrei anche ringraziare particolarmente la presidente dell'associazione italiana di sociologia Maria Carmela Godi la coordinatrice dell'AIS sezione educazione Maddalena Colombo che dopo sentiremo i colleghi del dipartimento insomma sono ringraziamenti molto sentiti che ci tenevo in qualche modo a fare stamani è un incontro importante ovviamente io non avrò il tempo di poter richiamare le tante cose che vorrei dire diciamo che vorrei così ritornare a questa concezione del nuovo paradigma per l'educazione fra l'altro interessante Andrea aveva inserito un punto interrogativo il nuovo paradigma per l'educazione perché aveva anche questo modo di insomma con grande cautela scriveva studiava e quindi mi piace anche ricordare questo elemento quasi più ipotetico un nuovo paradigma verso cui tendere un paradigma elaborato a partire da elementi di realtà ecco questo è un aspetto che vorrei richiamare quindi da situazioni concrete non principi astratti parlando della centralità dei processi della centralità degli studenti e l'unità dei processi educativi dobbiamo senz'altro richiamare anche se per pochi tratti l'avvento di una società complessa che naturalmente ha presupposto l'esigenza di un'iperspecializzazione allo stesso tempo però anche il mutamento delle professioni e la crisi di quella che Andrea avrebbe definito il paradigma sistemico aveva portato a una non corrispondenza tra gli esiti formativi e gli sbocchi occupazionali ecco i giovani sono stati il target della popolazione che hanno sperimentato sempre di più difficoltà nel tracciare i propri percorsi biografici percorsi formativi percorsi professionali sono diventati sicuramente molto più tortuosi meno lineari molto più incerti e insicuri le istituzioni educative hanno dovuto rispondere alle sfide crescenti del mondo del lavoro e probabilmente le difficoltà i momenti anche di crisi vissuti hanno portato le stesse istituzioni educative ad assumere piano piano progressivamente nuovi compiti anche per rispondere a quelle che erano le esigenze dei molti stakeholders di riferimento a partire dagli studenti e le loro famiglie ecco c'è stato soprattutto dagli primi anni 2000 in poi una maggiore capacità di raccordo tra le scuole e le università qui tra l'altro ricorderei un passo importante di Andrea quando in uno dei numeri di Magellano la rivista sull'orientamento da lui fondata dice che bisognava rafforzare il legame e le connessioni tra scuole e università considerati come ambienti di due fasi educative in continuità che solo insieme avrebbero potuto supportare al meglio gli studenti ecco sulla base delle spinte che sono provenute dal MIUR da una parte ma poi gli esiti del processo di Bologna le spinte dell'Unione Europea le politiche educative sono state via via implementate si sono focalizzate su aspetti importanti come la qualità dell'istruzione e la valutazione dei processi e dei risultati sono ovviamente tra gli aspetti che si potrebbero richiamare in questa cornice gli studenti hanno assunto una nuova centralità ed è diventato sempre di più necessario sviluppare servizi efficienti ma soprattutto servizi strutturali di orientamento e tutorato che avevano tra i compiti centrali proprio quello di supportare e sostenere gli studenti per tutta la loro durata degli studi perché soltanto in questo modo i giovani gli studenti avrebbero potuto progettare al meglio il proprio futuro formativo e professionale quindi nella riflessione scientifica ma anche nelle ricerche di Andrea c'è spesso questa nuova concezione dell'orientamento un orientamento che deve essere emancipato dal ruolo marginale tipico del passato ma che invece deve essere inteso come attività dinamica situazionale anche perché non c'è niente di meglio che una buona teoria applicata alla pratica e quindi anche da questo punto di vista nella concezione di Andrea insegnanti operatori avrebbero potuto produrre teoria riflettendo criticamente partendo dalle situazioni dalle esperienze concrete ma anche un orientamento capace di assumere proprio il ruolo di cerniera di connettore tra i bisogni degli studenti e le nuove esigenze sociali anche qui bisognerebbe ricordare i tanti e nuovi bisogni espressi da target diversi di studenti pensiamo agli studenti con problemi di apprendimento pensiamo alla disabilità già richiamata stamattina dal collega Auricchio pensiamo alle esigenze degli studenti lavoratori quindi una concezione di orientamento e tutorato diversa che serviva proprio a supportare lo studente fin dal momento della frequenza scolastica quindi un orientamento di aiuto e di supporto alla scelta nel senso anche di un rafforzamento rispetto alla scelta degli studenti pensiamo però anche alle connessioni tra le istituzioni educative e gli ambienti di lavoro la cooperazione tra le scuole le università e i servizi per il lavoro ha rappresentato una delle strategie più efficaci per supportare gli studenti proprio nel realizzare un buon percorso prima formativo e poi professionale il tutto in un'ottica di rete virtuosa che è uno degli aspetti più importanti per generare innovazione e poi due ultime note l'acquisizione delle competenze trasversali anche qui ci sono tutta una serie di studi e di ricerche dove si coglie già nel pensiero di Andrea questa importanza delle competenze trasversali e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva un aspetto importante da sottolineare è che sono competenze apprese sono competenze che non si imparano semplicemente studiando ma sono competenze che si possono apprendere se si partecipa a situazioni concrete se si partecipa ad esperienze pratico di tipo partecipativo deliberativo avrebbe detto Andrea soltanto in questo modo gli studenti possono essere supportati nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo e da questo punto di vista pensiamo anche alle esperienze indubbiamente innovative che già venivano realizzate in molte università italiane esperienze di partecipazione da parte degli studenti agli organi di governance nelle istituzioni universitarie che in un certo senso rappresentava la possibilità per gli studenti di essere collocati al centro delle policies insomma tutti i processi che hanno mostrato la potenzialità di azione delle università nei confronti degli studenti è vero molto ancora oggi si potrebbe fare però credo che quello che è stato fatto probabilmente anche di risposta di reazione alla crisi del cosiddetto paradigma sistemico una crisi che viene da lontano una crisi che ovviamente affonda le sue radici nella fine del secolo scorso ha innescato un processo di innovazione e sperimentazione nell'ambito universitario ed è chiaro che anche oggi più di prima le università sono sicuramente chiamate a svolgere un ruolo che è ancora più di sperimentazione e di innovazione ecco io credo che questo sia uno degli insegnamenti già stamattina veniva richiamato che probabilmente dobbiamo tesaurizzare e valorizzare al meglio cioè la possibilità di vedere e di vivere anche quelle che sono le difficoltà le crisi come momenti di reazione come momenti di sperimentazione e di innovazione per ora finirei così grazie grazie Francesca la parola al professore Alessandro Cavalli che parlerà sulla formazione dei docenti ed educazione democratica prego professor Cavalli ma ringrazio anch'io per l'invito a questo incontro Andrea Messeri io l'ho incontrato per la prima volta a Siena nella fine degli anni 90 quando ho insegnato per una frazione di ore come dire a un corso di sociologia e Andrea è una di quelle persone che uno magari incontra quando ha già come dire 50-60 anni e si rende conto di aver fatto un percorso prima di averlo incontrato convergente incontrando Andrea come dire ci si rende conto di avere lo stesso orientamento come dire di essersi già orientati nella stessa direzione e soprattutto e qui dico due o tre parole ma molto sinteticamente sull'orientamento in senso come dire ci siamo riconosciuti come dire come esponenti e elementi di una stessa tradizione culturale anche politica se vogliamo ma soprattutto culturale in cui alcuni elementi chiave erano comuni da questo punto di vista io sono assolutamente d'accordo con chi sottolinea il fatto che è nella formazione dei docenti il punto cardine non solo della formazione dei docenti di tutti gli ordini di scuole ma anche della formazione dei docenti universitari da noi c'è questa strana idea pedagogica che la pedagogia cioè sia per gli insegnanti delle scuole materne per gli insegnanti delle scuole elementari poi dopo non conta più per gli insegnanti delle scuole superiori e per gli insegnanti dell'università la pedagogia non esiste e questo credo che sia un grave errore e una grande carenza perché e faccio solo due esempi ci sono alcune cose fondamentali nella vita civile che si imparano prevalentemente a scuola e anche e soprattutto all'università la prima cosa è gli gli insegnanti sono degli amministratori di giustizia nel senso che distribuiscono dei valori per esempio distribuiscono voti promozioni bocciature e l'idea che uno studente si fa della giustizia nasce molto spesso proprio nell'osservare e nel giudicare il comportamento dei propri docenti quindi l'idea fondamentale della giustizia è qualcosa che nasce nell'esperienza scolastica e poi dopo uno se la porta quest'idea se la porta avanti per tutto il resto della sua vita un altro elemento importantissimo e qui voglio ricordare soltanto l'importanza che la lettura teorica di Habermas ha avuto per Andrea come per tanti altri il rapporto docente studente è per definizione un rapporto asimmetrico e deve essere asimmetrico non sono buoni docenti quelli che si mettono sullo stesso piano dei propri studenti come dire che considerano i propri studenti come dei pari è un rapporto strutturalmente asimmetrico come è possibile nell'ambito di un rapporto asimmetrico stabilire un dialogo cioè stabilire qualcosa che invece presuppone la parità e questa è una se vogliamo è la grande contraddizione del ruolo del docente che deve come dire essere nello stesso tempo maestro ma imparare ad essere maestro come dire quindi deve essere maestro ma con l'umiltà di coloro che imparano facendo l'esercizio della docenza la capacità di stabilire un dialogo il discorso sul dialogo è nella nostra tradizione filosofica assolutamente fondamentale è stabilire il dialogo con il discente era il cardine dell'insegnamento che Andrea Messeri come molti di noi hanno ricavato dalla teoria dell'agire comunicativo di Jürgen Habermas volevo soltanto segnalare questo punto si potrebbero dire tantissime cose su il contributo fondamentale che Andrea ha dato e soprattutto la sua capacità di animare e di mobilitare energie e impegno da parte di tutti coloro che l'hanno incontrato grazie professor Cavalli la parola al professor Paolo Giovannini la terza missione nell'università prego professor Giovannini non si sente microfono io non lo vedo e non sento adesso si sente credo sì grazie dicevo Andrea Messeri è stato come accennava all'inizio benché avesse pochi anni meglio di me è stato mio studente nella seconda fase della sua vita formativa cioè dopo l'esperienza fondamentale di filosofia sotto la guida di Paolo Rossi è transitato la sociologia con grande passione con grande passione e grande determinazione che era proprio del suo carattere e poi naturalmente la storia è diventata una storia personale che si è svolta soprattutto all'università di Siena nella sede di Arezzo e poi come già l'ho ricordato il ministro Luigi Berenguer e altri interventi la sua passione si è indirizzata verso quella che appunto possiamo definire una variante e una variante importante della terza missione che è un po' l'argomento che dovrei sviluppare rapidamente qui terza missione cosa vuol dire? sono cose molto note le due missioni fondamentali tradizionali sono la missione didattica e quella della ricerca scientifica ma fin dall'inizio del novecento si può dire soprattutto negli Stati Uniti si afferma questa altra terza missione ancora non chiamata così dell'università che però è indirizzata prevalentemente per una lunga fase e continua ad essere indirizzata fondamentalmente verso i problemi dello sviluppo economico del proprio territorio della propria nazione della propria area di interesse e con qualche distorsione anche del rapporto tra università e mondo esterno perché è vero che ha significato per molti l'affermazione di questa terza missione ha significato per molti anche la fine di quella concezione molto aristocratica dell'università che diciamo ignorava il mondo esterno l'affermarsi di rapporti di interesse di lavoro nei confronti del mondo esterno anche se ripeto per un lungo periodo è stato essenzialmente rivolto a servire i processi economici della propria area di interesse questo ha voluto dire comunque entrare nella società in qualche modo Andrea Messeri però ha rappresentato bene quella che qui si chiama oggi terza missione con termine forse discutibile ma insomma che si rifà appunto a una concezione di impegno verso l'esterno che può essere sia ripeto di tipo sostanzialmente di supporto tecnico e scientifico come è stato e continua ad essere fondamentalmente l'università o può essere invece un rapporto di impegno che potremmo chiamare di tipo pubblico e di tipo sociale nei confronti del mondo esterno è una declinazione della terza missione che a mio parere naturalmente fa onora che si impegna su questo piano come ha fatto Andrea direi per tutta la a meno per tutta la seconda parte della della sua vita perché benché non sia ancora da un punto di vista istituzionale regolato questo rapporto tra le tre missioni per dirla molto semplicemente regolata la didattica regolata la ricetta non è ancora formalmente regolata questa terza missione perché per lungo tempo è stata come dire affiancata e rappresentata potrei dire da una quarta missione che era quella esercitata in gran parte dai professori a tempo definito che però diciamo si muoveva più su un piano privatistico e anche su un piano di interesse quello dottoramette di incrementare il guadagno personale e anche la fama personale attraverso l'impegno esterno ma ripeto di tipo individuale e privatistico la terza missione nella sua declinazione pubblica che vuol dire nella sua capacità di muoversi nell'interesse diciamo rivolgendosi a quelle esigenze cercando di affrontare e in qualche modo far sì che i processi sociali venissero alimentati e venissero in qualche modo supportati dalla conoscenza scientifica come sottolineava Cavalli a proposito della pedagogia che lui riferiva soprattutto al mondo dell'insegnamento universitario ma si può anche estendere io credo al mondo esterno come ha fatto in gran parte anche Andrea Messeri nel senso di utilizzare l'acquisizione che si è avuta della propria capacità di studio di lavoro di insegnamento eccetera eccetera di indirizzarla all'esterno e far sì che ci sia un processo di come dire di crescita sociale e civile questa secondo me è la parte più tra virgolette nobile della terza missione senza con questo voler sottovalutare come dire la 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 capacità di di far progredire la società e l'economia in tanti altri aspetti attraverso i propri studi e le proprie invenzioni ma da un punto di vista soprattutto che è interessato soprattutto ovviamente le nostre scienze le scienze sociali eccetera credo che questo impegno nella nella nel sociale e nel pubblico ancora ripeto in attesa di regolazione normativa ma anche di regolazione morale potrei dire di questo impegno credo che sia quello che ci deve far ricordare di più l'impegno e l'attività di Andrea Messeri grazie grazie professor Giovannini la parola al professor Gionno Luzzatto sul ruolo degli studenti nella diffusione dei percorsi formativi prego professor Luzzatto si sente deve attivare il microfono si che risulta chiuso si risulta chiuso no adesso perfetto grazie allora voglio dire innanzitutto che purtroppo a differenza di altri colleghi io non ho avuto momenti personali molto stretti con Andrea e quindi sarò molto breve e dirò poche cose su quanto mi abbiano colpito le sue scelte per Geo e per i convegni da Geo promossi su qualche punto che mi ha particolarmente interessato nel suo contributo a uno dei convegni quello di Bari 2018 che appunto si intitola alla innovazione didattica universitaria cioè alla questione di cui qui vogliamo parlare parto già dalla denominazione di Geo giovani educazione orientamento organizzazioni analoghe si autodefiniscono con un titolo meno impegnativo che indica la natura del soggetto che le promuove oppure dell'oggetto specifico della loro attività con la sigla Geo viene invece prospettata una intera tematica ed è la tematica che affrontiamo quando parliamo di didattica student centered qui peraltro introdotta in questo titolo guardando a un orizzonte molto più vasto gli studenti come persone il nostro dovere di guardare a loro sempre anche in relazione al loro futuro e ancora nelle scelte di Andrea la caratterizzazione dei convegni vediamo il titolo del primo idee di università e strategie degli atenei italiani Roma 2015 vi è qui la convenzione del necessario pluralismo culturale non esiste una unica idea di università ogni ateneo elabora la propria ma vi è subito dopo e altri prima di me hanno già rilevato per questo elemento caratteristico nelle scelte di Andrea l'esigenza che queste idee non restino nell'astratto e che ognuna determini invece una corrispondente strategia potremmo forse essere scettici i nostri atenei in concreto elaborano davvero il proprio pensiero il proprio percorso sulla base di una scelta di fondo o sono sopraffatti da logiche settoriali da urgenze burocratiche Andrea da un lato prospetta qualcosa che può apparire una utopia ma dall'altro scende poi sempre e costringe gli interlocutori a scendere sul terreno delle precise proposte rispetto alle quali l'orizzonte utopico fornisce un riferimento magari remoto ma è importante fare le strade sbagliate e questa duplice ottica è ben individuabile anche nel più recente convegno innovazione didattica universitaria e strategie degli atenei italiani quello a cui ho accennato all'inizio Bari 2018 riflettendo quanto dire il mio intervento qui ho guardato con particolare attenzione alle considerazioni conclusive svolte da Andrea a Bari e se vi sarà una pubblicazione che raccolga quanto stiamo qui dicendo per ricordarlo inserirò nel mio intervento la riproduzione dell'indice di tali considerazioni infatti per cogliere il senso di esse bastano i titoli dei capitoli dei paragrafi e poche elencazioni di punti i vi toccati come filo conduttore troviamo la convinzione circa il carattere decisivo delle interazioni tra persone e tra soggetti istituzionali il paradigma relazionale dice Andrea l'azione in rete come strumento fondamentale in particolare strutture educative non chiuse in sé ma sempre confrontantisi con la società circostante e quello che prima era stato detto sulla terza missione e ancora il raccordo non occasionale ma del tutto sistematico tra autonomia universitaria e l'autonomia delle istituzioni scolastiche corresponsabili tra loro sia circa i percorsi degli studenti e quindi orientamento come momento centrale nel rapporto educativo sia circa la formazione dei futuri insegnanti e infine gli studenti come protagonisti nelle strutture formative oggi come validi cittadini domani anche grazie alle esperienze vissute in sedi educativi che nella loro vita interna prefigurino già una democrazia partecipata e qui credo che sia importante rilevare la necessità di un protagonismo degli studenti non solo a livello di organi di gestione c'è stato qualche accenno precedente ma e questo vuol dire appunto andare in quella direzione che Andrea chiamava anche l'opposto della democrazia rappresentativa cioè una democrazia partecipata e posso concludere che ciò che mi è fatto più opportuno per ricordare Andrea con queste poche parole è stato far riflettere su alcuni contributi in scelte operative e in parole da lui forniti e di cui noi che partecipiamo in particolare alle attività di Geo vediamo permanentemente in qualche modo la generità che lui si è lasciato grazie 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 professor Luzzatto la parola alla professoressa Marisa Michelini nuova educazione e democrazia prego professoressa Michelini grazie moltissimo a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro questa riunione questo ricordo di Andrea così importante e così sentito da tutti noi per non tradire l'emozione mi permetto di utilizzare alcune diapositive spero che si vedano non ancora vero? no vediamo se ci riusciamo adesso si credo vero? si si adesso si grazie grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo grazie al professor Abdi ho voluto trasformare questo mio piccolo contributo nel suo titolo in questo modo Andrea Messeri l'intellettuale l'amico il maestro 27 anni di comune pensare nell'imparare ad approfondire dall'orientamento ad un nuovo paradigma per l'educazione basato sul senso di relazione ci siamo trovati molti di noi con lui nel 94 nella commissione delegati di orientamento in cui era presidente Luigi Berling era responsabile della commissione il rettore febbraio di macerata ma Andrea Messeri era la vera guida Andrea Messeri ha cambiato la faccia dell'orientamento da informazione patinata delle guide costose affondi a tutti gli atenei per progetti basati sulla comune discussione fatta in crui e centrati sul diritto di cittadinanza un gruppo di delegati anche molto diversi attivi discutevano in crui e attuavano nelle loro sedi con la guida di Andrea si costruiva una nuova cultura nel 94 il primo regolamento italiano di orientamento e tutorato che ho avuto il piacere di scrivere a Udine ha portato un cambiamento anche in questo campo e sono stati realizzati tanti progetti diversi Andrea Almiur li sosteneva e li promuoveva la sua guida ci faceva crescere ci arricchiva ed è nato un gruppo indissolubile di amici Andrea Messeri scrisse un importante libro sull'orientamento fundò la rivista Vangellano l'amico l'intellettuale il nostro maestro conduttore delle nostre avventure intellettuali e anche sociali un percorso con molto lungo con molto impegno scusate fino al 2000 l'orientamento informativo e la continuità didattica il raccordo scuola-università da noi sempre inteso come collaborazione il tutorato i progetti delle commissioni di attenuamento e le prescrizioni dal 2000 tante innovazioni la vostra convegno su modelli e strumenti dell'orientamento universitario a cui parteciparono 55 rettori della CRUI la CRUI ufficialmente il MIUR 25 associazioni scientifiche nel 1998 ed è un volume che è rimasto alla storia ma anche la fondazione di Geo le indagini sull'idea di università i convegni di Pavia e di Udine sull'idea di università poi idea di università e strategia degli atenei italiani il primo convegno che lui organizzò con impegno con serietà con convinzione a Roma e che adesso ci ha lasciato un volume le riflessioni sull'innovazione didattica universitaria l'innovazione didattica universitaria e le strategie degli atenei italiani e attività locali Andrea era con noi anche per il convegno sul tutorato come strumento di promozione e successo formativo recentemente tenuto a Pavia mentre è stato costretto ad inviare un video al convegno di Brescia recentemente tenuto su educazione cittadinanza e costituzione amava moltissimo fare il confronto con le materie scientifiche in questa sua ultima riflessione che ha fatto su una nuova idea di educazione e ci sentivamo almeno una volta alla settimana una volta di più e poi ho deciso di andarlo a trovare nella sua casa a Firenze il 12 dicembre 19 abbiamo ancora una volta discusso di questo suo ultimo lavoro importante un nuovo paradigma per l'educazione il concetto di senso è vitale lo si avvicina con la comprensione nelle relazioni che implicano funzioni e ruoli nei contesti è elaborato e definito con gli elementi in rappresentazione nell'agire collaborativo costitutivo di trasformazioni ed equilibri in vari contesti la crisi dell'educazione da specificare meglio come trasformazione globale e veloce in un quadro concettuale che pone attenzione alle azioni collettive cervello sociale lo chiamava da valorizzare secondo nuove prospettive riflessioni che esprimono creatività domande che generano scelte rappresentazioni che il confronto porta verso strumenti concettuali che producono paradigmi e principi condivisi un nuovo paradigma per l'educazione ed un parallelo con i metodi scientifici era una cosa a cui teneva moltissimo da un lato l'operare sociale il confronto tra le esperienze con trete tra rappresentazioni di realtà per sviluppare nuove intese condivisibili come soluzioni e dall'altro il confronto di esperienze ed esperimenti sulla realtà il confronto di rappresentazioni ed interpretazioni da un lato i modelli di azioni su principi e dall'altro la costruzione di modelli più ampi basati su principi della disciplina che fondano prospettive e sviluppano creatività la pluralità e la complessità che genera differenze da guardare come valore nel confronto mirato all'intesa la complessità come ricchezza da analizzare dall'altra parte come valore ma anche l'intreccio nell'operare sociale della scienza le caratteristiche di un gruppo di ricercatori che condividono impostazioni e metodologie il paradigma strumento che qualifica le differenziazioni e sviluppa comprensione e integrazione e poi infine il paradigma relazionale alla scienza sul piano sociale la comunicazione realizzata attraverso le interazioni significative analogo a quello scientifico costruisce intesi attraverso il consenso motivato con partecipazione attiva dai soggetti assolutamente identico al piano scientifico crea condivisione di modelli e principi anche nel campo scientifico e le connessioni sono costitutive del nuovo paradigma in cui vi sono bisogni comunicativi mirati all'intesa capacità di governare democraticamente se stessi autonomie fondate sulla comunicazione e dall'altra parte i bisogni comunicativi mirati all'intesa di nuovo le capacità di governare democraticamente se stessi esprimendosi soltanto mediante evidenze e autonomie fondate sulla comunicazione nascono nuove modalità di educazione e riflessioni sulle forme di insegnamento ecco dunque il paradigma relazionale è una nuova didattica sul piano sociale il percorso di ricerca è deciso dai ricercatori che adottano un paradigma un programma di ricerca scrive lui nel suo ultimo lavoro la fondamentale trasformazione dell'interpretazione del mondo degli strumenti della fisica per comprenderlo con nuovi enti concettuali le nuove idee di stato misura la realtà guardata come interazione l'accettazione della natura intrinsecamente stocastica della misura le limitazioni di informazione sul sistema a confronto con le traiettorie di vita dei giovani il modello organizzativo a rete e la relatività delle conoscenze ecco allora sul piano didattico che l'innovazione didattica e nuovi piani di studio sono un bisogno le competenze trasversarie della cittadinanza attiva sono un orientamento da prendere e le azioni dei soggetti autonomi che individuano obiettivi comuni e partecipano a compiti definiti in organizzazioni flessibili condivise come dibattiti relazionali sulla ricerca di soluzioni condivise l'apprendimento diventa un processo evolutivo e generativo di nuove rappresentazioni modelli principi e criteri di analisi la comunicazione mirata all'intesa con lavori coordinati in cui si prendono decisioni che sono collettive e si vivono esperienze deliberative rapporti e convergenze tra discipline la ricerca di più enti di enti più generali e condivisi funzionali all'individuazione di principi comuni con i quali interpretare fenomenologie e differenze ciao andrea sarai sempre con noi con tutto ciò che ci hai dato sul piano intellettuale e umano da te abbiamo imparato molto e speriamo di saperlo portare avanti grazie grazie professoressa michelini e che ci ha fatto vedere Andrea oltre che non ricordare la sua lezione fine do la parola al professor Roberto Moscati autonomia dell'università e ruolo dello stato prego grazie grazie direttore non so se posso chiedere a Francesca se mi aiuta a proiettare due slide due sole io sono più contenuto rispetto a Marisa ma sono due se ce la fai perché io dal mio computer ho provato varie volte ma non riesco se non ce la fai lo stesso non è non è determinante eccolo lì perfetto grazie allora ecco partendo dal nuovo paradigma per l'educazione il ruolo dello stato e l'autonomia degli Atenei mi sembra un tema coerente di fondo che richiama per me una delle collaborazioni che ho avuto con Andrea quando eravamo insieme nel gruppo di lavoro che è stato costituito da Luigi Berlinguer per la riforma degli ordinamenti didattici o come dicono adesso la versione italiana del processo di Bologna allora abbiamo lavorato insieme in quel periodo e si parlava proprio di qualcosa di questo cioè la riforma degli ordinamenti didattici era sostanzialmente la riforma del sistema che aveva molto a che vedere con l'autonomia degli Atenei allora questo puoi passare alla seconda grazie Francesca questo problema io lo articolo in puoi passare alla seconda grazie ecco lo articolo in tre punti come vedete cioè intanto bisogna sapere abbastanza bene una differenza tra perché lo Stato-Nazione è stata la prima struttura esterna il primo potere esterno con la quale si è confrontato l'università storicamente e ci sono due modelli fondamentali che abbiamo tendiamo a confondere e a non tenere presenti come distinti da cui deriva il sistema nostro e altri sistemi insomma le differenze tra sistemi noi le sottostimiamo e si spiega anche perché perché c'è una tendenza all'omogeneizzazione attraverso il principio di globalizzazione però il modello europeo era il modello dell'omogeneità legale cosiddetta cioè molto legato all'università come proprietà legale dello Stato il sistema napoleonico è la versione diciamo Humboldt di Willem von Humboldt che sostanzialmente tendeva alla protezione contro pressioni e interessi costituiti per come dire la garanzia della della libertà di ricerca e il principio della qualità del lavoro intellettuale il modello anglosassone è nato in maniera molto diversa un nostro amico l'ha chiamato individualismo proprietario ma deriva da una concezione che risale a John Locke e che caratterizza la responsabilità di chi possiede nei confronti della collettività allora questo del common wealth è un principio che ha rapportato molto più facilmente le università anglosassoni con i territori con i contesti nei quali sorgevano peraltro sorgevano non ad opera di non richiedevano il riconoscimento con le bolle papali o il riconoscimento dell'imperatore ma nascevano per iniziative di gruppi locali interessati allo sviluppo della conoscenza e questo ha caratterizzato molto la possibilità di creare autonome e indipendenti atenei che sviluppassero loro politiche con rapporto diretto con la collettività di riferimento questa differenza era molto netta una volta ma nessuno a quell'epoca studiava questo genere di problemi si è poi modificata progressivamente siamo in un processo di modificazione questo è abbastanza interessante perché perché oltre allo stato sono aumentati sono aumentate le categorie e le figure interessate alle università una prima distinzione che aveva sviluppato uno studioso americano negli anni 80 bob clark si richiamava un triangolo di coordinamento cosiddetto che vedeva alcuni paesi alcuni sistemi di istruzione superiore maggiormente riferiti allo stato o dipendenti appunto come da origine dallo stato di riferimento altri erano più orientati al mercato quindi allo scambio all'utilizzo delle conoscenze altri erano dominati dalle aree disciplinari e dal potere accademico l'Italia veniva caratterizzata con questa terza caratteristica in questa prima divisione che poi si è moltiplicata si è molto allargata perché sono aumentati moltissimi quelli che vengono chiamati adesso stakeholders cioè portatori di interessi nei confronti dell'università perché sono aumentati questi portatori di interessi perché è aumentata la utilità economica della conoscenza si è scoperto che la conoscenza applicata era molto utile era molto utile per per lo sviluppo delle economie questo processo è in atto in corso ma è sostanzialmente influenzato fortemente dall'approccio anglosassone che era molto più coerente con questo genere di evoluzione allora questi processi sono chiamati anche trasformazione dell'università di elite all'università di massa ma perché noi l'abbiamo intesa inizialmente come reazione sociale alla domanda di istruzione superiore come canale di mobilità sociale ma questa si è rapidamente affiancata ed era molto più presente nei paesi anglosassoni fin dall'inizio la utilizzazione economica della della conoscenza l'applicazione della conoscenza allo sviluppo dell'economia questi due elementi hanno portato come sappiamo a questa situazione di grandi pressioni nei confronti degli Atenei pressioni che hanno avuto una serie di impatti da un lato a livello di Ateneo e dall'altro a livello di sistemi di istruzione superiore a livello di Ateneo l'università tende ad diventare sempre più una una struttura sempre meno come dicono gli inglesi loosely coupled cioè organizzata approssimativamente grossolanamente ma non non come un'azienda quindi non rigidamente tende a diventare invece sempre più una una struttura una istituzione autonoma che opera in maniera funzionale alla produzione e quindi sempre più quello che viene appunto chiamata università imprenditrice o intrapreneurie all'università con cambiamenti all'interno negli aspetti organizzativi maggiore potere alle governance delle università per dire semplicemente minore incidenza delle aree disciplinari riduzione delle autonomie disciplinari e delle dipendenze a livello diciamo nazionale universale delle singole aree disciplinari separate autonome fra di loro questo è un processo interno agli Atenei dal punto di vista di sistemi invece sappiamo che c'è una tendenziale trasformazione dei rapporti tra Stato e Atenei nel senso che i controlli degli Stati sul funzionamento degli Atenei stanno assumendo delle caratteristiche diciamo funzionali o spiegate per l'aumento dei costi delle università stesse e quindi del sistema del sistema che dipende sempre comunque in buona sostanza in buona parte dal finanziamento pubblico e quindi l'ente pubblico preoccupato dell'aumento dei costi chiede dei controlli di produttività diciamo e quindi nasce il concetto di accountability cioè di responsabilità da parte nei confronti dello Stato che inizialmente e in molti casi diventa Stato valutatore e in qualche caso viene chiamato Stato controllore per cui per cui si sviluppa tutto questo in termini economicistici secondo un modello detto del New Public Management che è un concetto appunto aziendalistico che tende a influenzare le università è molto interessante che questo questo processo di diffusione di questa tendenza anglosassone si confronta e si tende a fondersi o a intrecciarsi più che fondersi con le caratteristiche tipiche dei singoli sistemi dell'Europa continentale che hanno le loro specificità le loro tradizionali e i loro processi di resilienza come si dice oggi da cui una dialettica tra isomorfismo e allomorfismo cioè una combinazione diversa a seconda dei vari sistemi ma la tendenza alla pressione forte è quella che arriva dal modello anglosassone modello anglosassone che oltre ad avere sviluppato le forme di accountability e quindi di controllo da parte dello Stato anche nei sistemi interessante anche il fatto che si è sviluppato anche nei sistemi anglosassoni che inizialmente erano i più sostenitori dell'autonomia e dell'indipendenza degli Atenei per cui è in atto come tutti sappiamo ormai per esperienza un processo di autonomia con linee guida adesso non c'è credo più il professore Auricchio ma sarebbe divertente parlarne con lui visto che lui è quello che gestisce la creazione delle linee guida diciamo così questo potrebbe aprire tutto un discorso su il rapporto tra diciamo mediato dello Stato italiano nei confronti dell'università mediato dall'esistenza di un'agenzia di valutazione perché il problema in generale invece è il problema delle politiche del sistema di un sistema di istruzione superiore e delle quindi politiche dei singoli Atenei inseriti in quel sistema possiamo passare alla seconda o terza o comunque ultima grazie slide e allora quello che mi sembra proprio nello spirito del nuovo paradigma per l'educazione è domandarsi porsi di fronte a una serie di tendenze che possono come dire anticipare o caratterizzare in forma ancora molto molto confusa molto anche ambigua se volete l'evoluzione del sistema dei sistemi di istruzione superiore noi abbiamo in mente il nostro ma il problema non è solo nostro il problema è generale di tutti i sistemi di istruzione superiore non solo quelli occidentali in varia misura influenza un po' tutti e i confronti sono interessanti proprio da questo punto di vista allora qui sono elencate alcune cose velocissime che in tre minuti riassumo un problema è la combinazione di ricerca pure e di ricerca applicata il il fatto è che le ricerche pure erano tradizionali e le ricerche applicate sono sempre più richieste la 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 domanda a livello di Ateneo è come si possono combinare le due come si può salvare quella quella pura quella blue sky come dicono in termini anglosassoni accettando e anzi enfatizzando sviluppando la ricerca applicata questo in termini di politica di Ateneo ed è una una bella domanda un bel interrogativo per chi deve gestire i singoli Atenei l'altro aspetto è la formazione che assume diverse caratteristiche abbiamo la formazione tradizionale e la formazione professionalizzante uno dei problemi come Giugno Luzzatto ricorda abbastanza bene quando si discuteva degli ordinamenti didattici il problema era come caratterizzare il primo triennio della riforma e come sapete è stato un discreto interrogativo per parecchio tempo anche non risolto poi alla fine ancora in Italia ma è un problema generale comunque vanno tenute insieme tutte queste componenti o no o vanno divise e separate è anche molto chiara che c'è questa alternativa perché l'altra esigenza della formazione è la formazione pluridisciplinare ma quella vera la pluridisciplinarietà vera che richiederebbe in molti casi il cambiamento dei curricoli e la combinazione di perché per arrivare a rispondere meglio alle domande di figure professionali dal mondo esterno poi c'è l'educazione la formazione permanente largamente diciamo disattesa o trascurata in nostro paese molto sviluppati in altri paesi con diverse denominazioni noi per esempio la chiamiamo formazione permanente i master di primo e di secondo livello che organizziamo e le singoli atenei organizzano come credono e quando possono e come possono con rapporti col mondo esterno o meno ma in altri paesi si chiama in maniera diversa e quindi anche questa è una tra l'altro è una componente della terza missione volendo e infatti la terza missione di cui parlava Paolo prima è un sintomo dell'apertura dell'università al mondo esterno e perché riguarda anche il trasferimento soprattutto il trasferimento tecnologico e l'innovazione che caratterizza molte aree disciplinari delle scienze naturali le scienze hard le scienze hard applicate e questo è con tutta una serie di conseguenze evidenti nelle strategie dei singoli atenei e dunque di fronte a tutto questo assommarsi di compiti richieste di bi-performance è un'unica istituzione che deve risolvere e tenere insieme e tenere dentro tutte queste componenti oppure devono esserci diverse istituzioni che si occupano di compiti specifici una proposta è stata l'università a rete se prendete l'università di Cambridge o l'università di Oxford per esempio vedete che tutte queste cose stanno insieme ma sono tutte divise separate e si è pure all'interno dello stesso sotto lo stesso ombrello diciamo e questa è una cosa che in Italia non si è ancora riusciti a fare in altri paesi in Francia meno che mai voglio dire è complicato e non è chiaro come si possa risolvere così qual è uno dei rischi della suddivisione è quello di sviluppare fortemente la ricerca e di trascurare la didattica allora in alcuni sistemi chiamano chiaramente le teaching university e le research universities come due categorie diverse che danno maggiore incidenza all'una attività piuttosto che all'altra ed è questo un altro interrogativo insomma noi l'abbiamo certamente rifiutato ma rischiamo di andare in questa direzione informalmente senza dichiararlo mai e questo è uno dei problemi ma un altro dei problemi cruciali e l'ultimo che mi sento di proporre è quello relativo a una tendenza che si sta sviluppando in diversi paesi che comincia a essere sostenuta anche in Italia basata su un fenomeno forse inevitabile comunque presente presente di competizione allora la competizione tra TNA è molto stimolata in vari sistemi e attraverso anche clamorose iniziative chiarissime iniziative per esempio in Germania ma in Francia in Spagna cioè iniziative che premiano alcune performance di grande qualità di alcuni Atenei premiano con grosse risorse finanziarie quindi incentivano la creazione di forme di università di elite allora questo rischio se volete ridere ci ho messo anche la superlega proposta nel mondo del calcio cioè si potremmo dire fare un gruppo di università che che danno grande prestigio al paese che vincono le competizioni a livello di ranking internazionali che reggono il confronto con le grandi università di ricerca americane adesso cinesi e così via inglesi quelle 4-5 e le altre si arrangiano insomma fanno quello che possono perché avranno molto meno risorse per poter sviluppare un'alta qualità di ricerca eccetera e così via questa è una tendenza che ripropone il problema dei rapporti tra pubblico e privato cioè tra finanziamenti pubblici finanziamenti privati tra università pubbliche università private e che insomma rappresenta una sfida nei confronti della nostra tradizionale concezione dell'istruzione superiore e dei sistemi universitari e cioè quella di diffondere il più possibile a livelli generali le occasioni di qualità e di quindi alzare la qualità media dell'offerta formativa attraverso una serie di politiche pubbliche che ne consentano lo sviluppo a seconda delle caratteristiche proprie dei contesti di riferimento economico geografiche politiche eccetera e quindi come dire non seguendo la tendenza molto diffusa altrove appunto a incentivare solamente alcune poche ad anno del resto del sistema chiudo con questa frase che ho trovato un altro giorno per caso in un libro di Mariana Mazzucato che è appena uscito che è un economista che comincia a essere conosciuta e che che finisce il suo libro con questa frase lo Stato deve tener conto di tutti gli stakeholders allora gli stakeholders sono moltissimi il problema dello Stato probabilmente è se deve tenere conto di alcuni stakeholders ad anno degli altri privilegiando alcuni o se invece deve cercare di tenere conto di tutti gli stakeholders che vuol dire tutti i portatori di interesse tutti quelli che sono interessati categorie diverse a un miglioramento dell'istruzione superiore naturalmente questa è una differenza molto netta è una scelta molto molto difficile forse ma forse inevitabile a questo punto se ci sarà una vera politica di istruzione superiore da parte dello Stato e dei singoli Stati tenendo anche conto che non si può fare più o meno del quadro generale di riferimento e cioè di quello che caratterizza la circolazione degli interessi delle risorse delle conoscenze e quindi del fatto che non siamo un'isola autonoma ma che abbiamo a che fare dipendiamo volente o non volente in maniera ufficiale o non da istituzioni come l'Unione Europea o dalle grandi multinazionali che agiscono nei settori di interesse quindi che dobbiamo tenere conto di questi condizionamenti e di queste pressioni ma che comunque dobbiamo avere una nostra posizione all'interno di questo quadro e non dipendere quasi casualmente dalla forza dell'uno o dalla forza dell'altro dalla proposta di un modello piuttosto che dell'altro va beh resta quindi una serie restano una serie di interrogativi che diciamo caratterizzeranno i prossimi anni per tutti coloro i quali lavoreranno in questo settore quindi per noi grazie grazie al professor Moscati e devo dire che sono le 11.7 e devo ringraziare tutte le relatrici e i relatori perché per il rispetto assoluto dei tempi previsti perché siamo arrivati nel secondo nostro programma con 7 minuti di ritardo che considerando l'inizio è assolutamente assolutamente accettabile va benissimo e siamo e ringrazio veramente le colleghe e i colleghi per aver rispettato questo come sapete è sempre un lavoro non molto gradevole quello della chairperson di un seminario di un convegno credo che secondo il programma noi dovremmo avere una pausa fino all'11.30 se siete d'accordo io mi attengo al programma dove poi Francesca Bianchi guiderà noi se fossimo stati ad Arezzo in questo momento sarebbe stato il coffee break nel parco nel parco del Pionta e poi la ripresa in presenza la situazione purtroppo della pandemia non ci consente di farlo però la prossima volta lo faremo se come si ha intenzione di mantenere un seminario annuale intestato Andrea Messeri io sono ben lieto sarò fuori sarò fuori il prossimo anno perché come pensionato ma mi fa piacere consentitemi un minuto io non l'ho detto ricordo Andrea Messeri aveva la stanza davanti alla mia avevamo molto molte opportunità di discutere molte volte purtroppo di affari relativamente all'università alla gestione come direttore di partimento come presidente è un presidente di corso di laurea eccetera eccetera e talvolta riuscivamo anche a pranzo a risparmiare a ritagliarsi un po' di tempo per discutere di alcuni comuni amori e comuni riferimenti e mi ricordo gli ultimi anni stavamo nel corridoio al pionto a discutere il problema dell'università Humboldt Scheiermacher tutte le discussioni berlinesi ovviamente e anche nel nome di un comune affetto nei confronti di Jürgen Habermas erano le nostre passeggiate nel corridoio di dove ora abbiamo il laboratorio e quindi mi sembra stamani sia stato un omaggio scientifico assolutamente doveroso e importante e se Francesca è d'accordo facciamo questa pausa ci stanchiamo restiamo qui io vado a fare un po' di burocrazia perché il rettore è qui che manda messaggi su whatsapp scusate che guardavo avevo intenzione lo sanno ma manda messaggi su whatsapp perché vuole avere notizie anche della situazione della didattica Francesca volentieri se anche tutti i relatori e le relatrici sono d'accordo benissimo facciamo una pausa e riprendiamo allora le 11 e mezzo 11 e mezzo preciso 11 e mezzo preciso nella tua stanza prego Loretta va bene? si si scusate avevo perso un colpo si 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 va bene va bene secondo io mi attengo a quello che ho visto sopra sopra al programma e quindi all'11 e mezzo sarà Francesca che coordinerà i lavori bene a fra poco allora grazie a tutti Francesca se usciamo tu ci ria si si io poi vi riammetto io sono rimasto qui non ti lascio fuori grazie grazie a dopo allora grazie a tutti a dopo grazie davvero ciao Francesca ciao ti vediamo dopo per 5 minuti ciao Massimo ciao per 5 minuti è arrivato no no ho seguito tutto no 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 alle 9 ero già qui alle 9 ero già preso mi senti? non ti sentivo perché avevo tolto le cuffie no 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 ho seguito tutto ad alle 9 dalle 9 e 5 ero già pronto e allora non ti ho visto scusa avevo il video e il microfono chiuso perfetto va bene come giusto che sia va bene ok a fra poco allora grazie ciao 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 facciamo comunque una prova allora perfetto ci sono eh anch'io bene perfetto facciamo ora una prova diapositive diapositive e mi devi dire se voi la vedete no tu l'hai aperto vero il file? sì ho aperto il file allora devo secondo te presenta ora e poi dovresti cliccare una finestra ora 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 vediamo ecco sì 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 perfetto poi lo puoi fare se lo vuoi un po' più grande come come lo desideri insomma ma ehm no perché questo è il mio massimo no prova prova no prova prova magari ad andare avanti no come se tu volessi mostrare la seconda slide no vediamo come com'è 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 no vedere si vede no vedere si vede forse però sono io che ho una visualizzazione perché tu l'hai messa in presentazione sì no io l'ho messa in in powerpoint perché bisogna far così altrimenti ok potresti se hai visto c'è il righello no dove vedi tutte le diapositive piccine no no non il righello quello in alto ma quello sulla sinistra perché poi hai nel tuo file tutte le diapositive piccine dovresti visualizzare piccoline no sono in pdf però eh ah ok ok allora se vuoi vado a prendere l'altro file magari meglio solo che può essere che allora facciamo quest'altra prova no vedere si vede diciamo che si vede un po' piccolino però vedere si vede non è che non si veda eh allora aspetta faccio qualcosa di più tanto abbiamo forse lo zoom lo zoom perché adesso vedo che è 72 sì ok allora facciamo facciamo uno zoom più grosso dove lo trovo aspetta qua sì questo qui qua sì 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 si vede meglio eh sì devo però farlo andare mentre nell'altro caso ho la slide tutta piena ma senti allora si potrebbe anche fare così o tu ritorni a quella che era la tua intenzione originaria poi vediamo come lo vedono gli altri decidiamo così va bene diciamo così per me si va bene va benissimo è che appunto alcuni guarda già sulla seconda le righe successive le devo scendere no infatti poi ti devi stare a preoccupare eh no eh infatti no no evitiamo che altro posso fare va bene via qua così ho tolto ancora qualcosa già meglio già meglio sì 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 comunque se noi siamo davanti al pc si vede maddalena sì 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 poi mi si ascolta al limite e lo tolgo in questo momento è meglio tenerlo che così è pronta allora senti io introduco ma non ho bisogno né di slide né di nulla quindi per me lo puoi anche lasciare già pronto eh ok io semplicemente ecco adesso in questo momento non si dovrebbe vedere eh vediamo la prima slide ah va bene perfetto la copertina diciamo ok ok mentre io in questo momento vedo vedo te che parli ok sì sì infatti io eh sì c'è la tua presentazione ok rimango così guarda così va bene e a quando ho finito faccio interrompi con di perfetto io penso che infatti lo aspettiamo tre minuti e poi riprendiamo c'è molta molta gente collegata mi sembra sì perché ci sono anche i miei studenti benissimo eh infatti di sociologia dell'educazione di sociologia generale a f5 della tastiera per mettere in modalità presentazione ma proviamo proviamo anche questo dai allora questo è uno studente infatti luigi grazie per il suggerimento no perché questa non è presentazione è però infatti è un powerpoint e quindi noi non possiamo agire sulla presentazione luigi preferisco così perché secondo me se anche per gli altri si vede io credo che vada bene vediamo se sono rientrati si vede bene comunque volevo assicurare bravo massimo grazie dacci un feedback no beh si vede perfetto e non ingrandire troppo se no poi non entra più dentro il testo quindi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo non li vedo tutti, quindi ho bisogno di una... Ci sono, ci sono, sì sì ci sono. Ci sono anche io. Allora, posso dire questo, al momento la lista è in ordine alfabetico, però a me sembrerebbe meglio mettere prima l'orientamento, poi il tutorato, poi le idee di università e poi la cittadinanza, perché sono l'ordine in cui li ha affrontati Andrea. Vi va bene o lascio le cose così? No, va bene, va bene. Va bene. Ok, allora metto nell'ordine diciamo di tema, grazie. Allora, io a questo punto riprenderei perché sono le 11.31, ovviamente tutto per evitare poi di rubare eccessivo tempo agli interventi che verranno dopo, quindi riprendiamo i lavori, do il benvenuto alle studentesse e agli studenti del corso di sociologia generale, ringrazio ancora i colleghi e le colleghe chi si sta connettendo in questo momento. Allora, due parole perché stamattina abbiamo affrontato alcuni temi che avevano a che fare appunto con la necessità, la ricerca di un nuovo paradigma per l'educazione. In questa seconda sezione invece faremo più un affondo sullo sviluppo dei processi di apprendimento e l'innovazione della didattica, un tema che sta diventando e diventato un'esigenza molto avvertito dall'università italiana, dal punto di vista della qualità della didattica, ma anche dal punto di vista del successo degli studenti, ed è stato messo al centro della riflessione da parte appunto di molte università. Abbiamo tutta una serie di ricerche, anche recenti, molto interessanti, che ci mostrano come accanto a comportamenti resistenti, tendono a diffondersi sempre di più nuovi approcci nelle comunità disciplinari, con la finalità di pensare alle pratiche di insegnamento come qualcosa di diverso, probabilmente più ambizioso, che vada al di là del tradizionale impegno del docente. In molti casi sono pratiche innovative che riconoscono agli studenti un ruolo collaborativo e partecipativo nella produzione della conoscenza e cercano di lasciarsi alle spalle modalità di insegnamento di tipo tradizionale. Insomma, si nota nei nostri atenei una forte tendenza alla sperimentazione didattica e anche alla diffusione di contaminazioni preziose tra i docenti, nelle forme collaborative di insegnamento, ma anche per esempio nelle contaminazioni che vediamo tra ambiente universitario e mondo del lavoro. Pensiamo agli imprenditori, ai manager, ai professionisti che sono sempre più coinvolti nella didattica universitaria, spesso anzi si rivelano testimoni essenziali che implementano le riflessioni sugli sbocchi occupazionali dello specifico corso di laurea, ma che portano anche esperienze concrete, molto utili per lo sviluppo formativo degli studenti. Stamattina è stato già richiamato, ma lo direi con più forza, in molti casi il ruolo del docente diventa un facilitatore dell'apprendimento, qualcuno che è in grado di sviluppare nuove competenze di tipo interdisciplinare, organizzativo, manaceriale. Sviluppare i processi di apprendimento e di innovazione alla didattica può anche voler dire cercare di sfruttare in un modo innovativo le nuove tecnologie. Questo è quello che la maggior parte delle comunità universitarie italiane ha fatto, se ci pensiamo bene, nel marzo dello scorso anno a causa della pandemia da Covid-19. Ebbene, dopo un anno di pandemia in effetti iniziano a essere disponibili risultati di ricerche che permettono di illustrare, di mostrare quella che è stata la reazione degli Atenei italiani ad una delle sfide senz'altro più dirompenti, più impegnative e che in molti casi mostra una capacità di reazione, una capacità di risposta alla crisi pandemica inusuale. Da questo punto di vista, anche come Ateneo di Siena, ci sono tutta una serie di esperienze molto interessanti che alcuni di noi hanno cercato, spesso così come reazione spontanea, di assumere in termini di nuovi comportamenti, ma anche di nuovi metodi legati alla didattica, come anche per esempio legate alle verifiche, alle prove di esame. Ecco, è a questa importante esperienza, per certi aspetti sorprendente e inattesa, che ora farà riferimento Maddalena Colombo con la sua relazione intitolata a questa pandemia Trasmettere senso, ricostruire la docenza universitaria. Per chi non la conoscesse, credo che siano pochi a non conoscerla, Maddalena Colombo è professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Cattolica di Brescia e Milano è direttrice del CIRMED, un centro molto importante di iniziative e ricerche sulle migrazioni di Brescia e dell'ARIS, laboratorio di ricerca e intervento sociale, sempre presso la stessa università. Dirige il corso di perfezionamento del Mediatore Europeo per l'Intercultura dell'Università Cattolica di Brescia, è stata coordinatrice scientifica del modulo Jean Monnet Ideal, Intercultural Dialogue in Europe and Active Policies e attualmente coordina la sezione di sociologia dell'educazione dell'AIS, Associazione Italiana di Sociologia. È con grande piacere che la saluto, che la ringrazio e le scelgo la parola per il suo intervento. Bene, molte grazie Francesca per l'introduzione e buongiorno a tutti e a tutte. sono veramente onorata di poter dare il mio modesto contributo, anche in ricordo di una figura che non ho avuto il piacere, la fortuna di conoscere e che quindi sto scoprendo adesso quasi come un nuovo maestro che mi accompagna e che quindi per me è assolutamente sorprendente, leggendo quindi il suo testamento scientifico, ritrovarmi quasi pienamente, direi, nelle sue parole. Lo dico a beneficio di tutti voi che avete potuto godere evidentemente proprio di questa guida, come ne avete parlato, e anche a beneficio di Sara Messeri che oggi è qui con noi e quindi inauguriamo insieme. a me sono anche felice di questo e di essere presente nella prima di queste edizioni che ho sentito diventerà una serie di appuntamenti e spero di esserci anche quindi in futuro. Questo per dirvi che doppiamente, insomma, il mio contributo vuole allargare eventualmente lo sguardo proprio da persona che finora non ha colloquiato con questo tipo di pensiero e quindi forse per questo sono stata indicata da Francesca Bianchi, non lo so, forse è uno scherzo del destino. Ancora dico, prima di iniziare, che chi mi conosce sa che nella sociologia dell'educazione sono presenti tanti temi di ricerca, in particolare io non ho avuto occasione di approfondire il tema dell'università, lo sa molto bene l'amico Roberto Moscati o l'amico Alessandro Cavalli con i quali ci si confronta, ci si è confrontati anche in passato, però davvero questa pandemia ci chiama ad una convergenza di temi e sono molto d'accordo con la premessa fatta da Francesca Bianchi che mai come ora i diversi segmenti dell'educazione, quindi scuola e università, stanno mostrando una particolare convergenza in termini di problematiche, in termini di azioni per risolvere le problematiche e quindi dobbiamo pensarli come ambienti in continuità per le ragioni che molti sappiamo, però sicuramente ci coinvolgono anche come docenti aumentando la nostra consapevolezza di avere un potenziale educativo oltre che quello strettamente formativo e specialistico. La mia relazione si intitola Questa pandemia perché sappiamo bene che l'esperienza che stiamo vivendo, che è un grande trauma collettivo, non è il primo probabilmente per alcuni di noi, ma non sarà l'ultimo e quindi forse è il primo di una serie di traumi collettivi che noi ci troveremo ad affrontare e quindi è quello che può darci più lezioni. Cioè quelle verso il quale forse proveremo un ricordo, una nostalgia in un certo senso se l'avremo affrontata in modo corretto, in modo soddisfacente. E parto anche con le prime considerazioni. Da un lato possiamo dire che all'università la pandemia ha rappresentato uno shock perché siamo praticamente quasi da allora, cioè un anno e due mesi fa, chiusi nel nostro modo consueto di intendere l'ambiente universitario. Quindi abbiamo fatto un'esperienza scioccante, diciamo, di deprivazione di quelle coordinate spazio-temporali che prima definivano sia il mestiere del docente che è il mestiere dello studente, potrei dire, di converso. Però anche uno shock di tipo epistemologico, perché la pandemia ha rimesso in circuito la scienza, la scienza come eventuale depositaria di verità, se non di certezze, ma anche quindi esposta più che mai allo scontro con la realtà sociale, con lo scetticismo, con la debole cultura scientifica che l'Italia, sappiamo, rappresenta. L'impatto, diciamo, sull'aspetto didattico, perché oggi parliamo di didattica, oggi parliamo di relazione chiaramente formativa tra il docente e il discente, come si è detto, ed è giusto, ed è importante, è fondativo che oggi ci concentriamo su questa delle tre missioni, sapendo che naturalmente non è l'unica e non si esaurisce, ma anzi la didattica c'è perché ci sono le altre due missioni, quindi come è già stato detto. L'impatto è stato sicuramente molto forte su quelli che, come me, per generazione possiamo definire docenti old style, che ha creato un iniziale sicuramente a Fanno, ma l'università per fortuna anche italiana è piena di nuove generazioni di ricercatori e di scienziati, che forse si sono assunti quasi, insomma, il grosso del carico, soprattutto nella prima fase, quando in assenza appunto di linee guida, di cui si è parlato prima, si è andati un po' allo sbaraglio. Diciamo che però questo anno, anno e mezzo di relazione intermediata da computer, sappiamo che sta coltivando una leva di studenti, forse diventeranno davvero più efficienti di quelli precedenti, efficienti nel senso di portare a termine un compito che è quello di affrontare i temi, superare gli esami, laurearsi, però sicuramente ci aspettiamo anche che emergerà una fragilità di questa generazione, cioè della generazione pandemia. Nello stesso tempo, però, la pandemia, o meglio, l'università durante la pandemia ha svolto anche una funzione di cura, mi permetto così di riferirmi alla nozione di care in senso molto lato, penso che anche Andrea Messeri avrebbe condiviso questo cenno, cioè il fatto di avere un impegno quotidiano in DAD, quindi parlo sia dell'università che di tutto il comparto scolastico, ha generato, ha ricostituito quella routine che lo shock pandemico aveva decisamente frantumato. Ci si può dimenticare di essere in pandemia mentre si fa lezione, mentre il nostro sguardo è concentrato, anche se chiaramente è un altro tipo di concentrazione, sulla lezione in corso. Mi viene anche da dire, in senso forse più ottimistico, che l'interazione docente-studente, di cui parlerò più in seguito, si è anche più individualizzata, cioè paradossalmente la massa studentesca che magari un professore è abituato a trovarsi di fronte, si è ridotta in una serie di quadratini, ma sappiamo bene che ogni quadratino può illuminarsi e può arrivare appunto da ogni quadratino sullo schermo una domanda, una richiesta, una pretesa. E questo però significa andare verso una didattica forse più individualizzata, dove il quadratino si compone di un nome e di un cognome, oltre che talvolta di un viso, sempre che la connessione naturalmente tenga anche la videocamera. E poi potrei anche dire che ci sono stati, sicuramente ogni collega presente oggi potrebbe ricordarsene, dei momenti anche, diciamo, di solidarietà, nella comune, ma il comune mezzo gaudio, nella comune difficoltà di trattare con l'impaccio tecnologico. Questi sono i dati, secondo me, positivi e che si riferiscono a una dimensione di cura che forse noi avevamo ma non sapevamo d'avere, quindi di cui siamo forse oggi più consapevoli. È corretto, di fronte a uno shock del genere, farsi dunque delle domande su che cosa abbiamo perso, cosa abbiamo guadagnato o guadagneremo e quali investimenti possiamo immaginarci, quindi per trarre lezioni positive dall'emergenza che stiamo vivendo. Io distinguerei tre lati, lato docente, lato studente e lato ovviamente sistema organizzativo. Partiamo dal lato docente, sicuramente l'abbiamo vissuto tutti, si è dilatato il nostro tempo di lavoro, si è intensificato il nostro stare nel contenuto che stiamo trasmettendo, quindi si è ricalibrato il nostro tempo, il tempo che si divide, si distribuisce normalmente nella professione accademica tra le tre missioni, si è molto più ricalibrato sulla didattica, in qualche caso sottraendolo alla ricerca anche per le difficoltà forse per esempio nelle scienze sociali di fare ricerca sul campo in un momento in cui tutti sono chiusi in casa. Quindi diciamo che abbiamo vissuto in modo, io lo metto tra virgolette, quindi non tecnicamente, ma quella che si potrebbe dire una didattica aumentata, aumentata perché ha invaso la professione docente in senso positivo. Lo dico in senso positivo proprio perché sulla scorta del pensiero di Andrea Messeri la centratura sullo studente diciamo era un atto dovuto e questo ha sicuramente ricentrato di più sullo studente il nostro lavoro. Ovviamente tutto questo non è privo di costi da pagare, forse hanno pagato un costo più alto, stanno pagandolo le donne accademiche che si sono trovate nella difficile, nell'ancor più difficile conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro laddove i due ambienti, le due funzioni sono comprese nello stesso ambiente domestico e quindi ancor più difficoltà di portare avanti le funzioni sovrapposte. Ci sono già delle evidenze empiriche sul fatto che dopo un anno per esempio la produzione scientifica in termini di pubblicazione vede molto più avanti gli uomini a parità di grado accademico che non le donne, questo vuol dire che molte donne hanno dovuto certamente erogare la didattica magari a discapito di tempi che avrebbero potuto dedicare alla ricerca o che gli uomini hanno dedicato invece alla ricerca. Quindi non dimentichiamoci che nella funzione di studente ci sono sempre molte disuguaglianze già di partenza. Però possiamo anche dire che forse l'investimento che possiamo immaginare dopo queste perdite e rivoluzioni è che sicuramente la proiezione su scala globale grazie alla ubiquità dell'online farà un passo avanti. Quindi io credo sicuramente non so se l'università sarà più internazionalizzata ma i docenti che sono l'architettura dell'università ma saranno sicuramente più internazionalizzati, cioè più disponibili ed aperti alla possibilità di essere onnipresenti anche in una sede estera pur stando a casa propria. Quindi la mancanza di mobilità fisica forse potrebbe aumentare il desiderio e la disponibilità alla mobilità invece e allo scambio fuori dai propri confini culturali. Dal lato studente dobbiamo segnalare ovviamente forse il prezzo più alto perché perdendo il contesto di studio aumenta quella distanza che poi può portare a demotivazione proprio dal luogo di produzione intellettuale. Quindi il training cognitivo che si offre e che in un certo senso viene vissuto dallo studente diciamo che perde tutti quegli indicatori, quelle coordinate ecco che sicuramente aiutano a riconoscersi in un ruolo che è quello come Parsons definiva della studentry e quindi l'attivismo funzionale è un risultato, la capacità di organizzarsi. Ci saranno sicuramente categorie di studenti che avremo in un certo senso la responsabilità di individuare, di riaccompagnare che hanno cominciato a maturare questa difficoltà. Pensiamo anche che cosa hanno perso gli studenti in questa fase, la possibilità di andare all'estero e quindi da lì anche tutte le ricadute negative di ritornare a essere provinciali, infantilizzati si è detto molte volte, una sorta di regressione infantile dello studente che fa lezione diciamo o riceve la lezione in modo più passivo. Noi lo possiamo diciamo immaginare anche dalle strane richieste che riceviamo e anche dalla pretesa magari di trovare il docente reperibile in orari che prima erano assolutamente contingentati dal contesto ma privati di contesto, l'orario diventa H24, inviare mail e attendersi anche il feedback alle email mandate. Però attenzione, come dicevamo prima, ci potrebbe essere un investimento su questo, cioè che potrebbe aumentare appunto l'attivismo strumentale dello studente e mi rifaccio qui proprio alla locuzione di Parsons e quindi potremmo aspettarci l'anno prossimo un aumento dei tassi di immatricolazione, un aumento della capacità di restare nel percorso regolare quindi di laurearsi, magari un rientro in università di tutti quegli studenti più maturi che nel frattempo noi abbiamo perso per strada e sappiamo, chi studia all'università lo sa bene che il drop out accademico è uno dei grandissimi mali endemici della nostra università italiana. Quello che dico è surrogato da qualche dato, qualche dato ovviamente che deve ancora essere ampiamente diciamo pubblicato e supportato però diciamo che uno dei recenti sondaggi ci rivela ad esempio che nella fase acuta, nella prima fase della pandemia stando a quanto riportano i docenti stessi interpellati da una survey dichiarano in sostanza di avere modificato parzialmente o molto il proprio modo di fare didattica quindi solo un quarto dei docenti è rimasto fermo alla sua tradizionale modalità. E lo stesso potremmo dire guardando questa attribuzione che la interazione diretta con gli studenti che alla fine è quella che proprio ci manca e quindi di cui si è cominciato a sentire veramente il peso in senso positivo quando lo abbiamo perduta o rischiavamo di perderla. Vediamo anche qui che solo il 12 più 7, 19% si è sottratto diciamo alla presenza e alla capacità di trasmissione e io quando dico trasmissione intendo anche la possibilità di offrire un rispecchiamento. Attenzione perché il nostro essere davanti a una audience fisicamente e corporalmente genera quella trasmissione di modello che poi appunto porta alla trasmissione di valori di cui ci ha parlato molto bene anche Alessandro Cavalli prima. Bene, qui sembra che solo il 19% sia limitato a stare a casa propria dietro il proprio schermo e a fornire o registrazioni o materiali senza lezione. Questo è un dato molto positivo che conforta la tesi di Francesca Bianchi sul fatto che si sta facendo già molto, si sta davvero camminando velocemente verso una riscoperta dell'aspetto pedagogico della nostra didattica. Se guardiamo per esempio nelle scuole superiori, questo è un sondaggio Ipsos che è stato pubblicato da poco, beh, gli studenti delle scuole superiori dicono che il 37% dei loro docenti non hanno cambiato nulla nel fare la DAD rispetto a come erano in aula e un altro 44% dice che non ha cambiato nulla ma ha aggiunto qualcosa. Questo ci fa capire che forse l'università era un po' più preparata della scuola superiore a questo trauma, no? Infatti nel precedente sondaggio risultava che il 9% aveva già fatto proprio lezioni completamente da remoto e il 17% aveva già usato l'e-learning. Non sono molto, non sono percentuali diciamo per allora troppo confortanti però il salto in avanti è sicuramente stato fatto. Ora noi dobbiamo immaginarci che gli studenti annoiati di oggi e gli studenti delle scuole superiori annoiati di oggi sono i nostri studenti matricole di domani e quindi è molto importante coltivare il nesso e il coordinamento tra i due comparti. Un aspetto importante, quindi un investimento come dicevo prima potrebbe proprio essere il fatto che per esempio questo sempre secondo quanto riferiscono gli stessi docenti universitari interpellati il 22% dice che ha avuto più persone connesse durante le lezioni online rispetto agli studenti che vedeva in aula prima e questo dato del 22% aumenta se andiamo diciamo da nord a sud diventa il 25% del sud questo fa pensare ipotizzare un'università più inclusiva e quindi si va nella direzione che abbiamo già detto. Per quanto riguarda il sistema universitario e quindi qui dobbiamo capire che cosa ci succede all'interno e naturalmente sopra e a monte della didattica universitaria che è appunto da un lato l'effetto di una comunità ma anche l'effetto di un sistema tecnico gestionale che potrebbe aumentare la pressione verso il controllo verticale di cui ci ha parlato Roberto Moscati. Però è anche vero che ognuno di noi ha potuto verificare sulla propria pelle qualche investimento è cominciato a esserci e ci sarà sicuramente nei prossimi anni un investimento proprio sul rendere tutto più flessibile e più leggero e io credo con un effetto sistemico positivo per tutti noi spingendo anche sia gli studenti che i docenti ad aumentare la novità, l'innovazione sia nei metodi di erogazione della didattica che di valutazione degli studenti. Ora ci sono chiaramente anche qui dei prezzi che ci immaginiamo da pagare il fatto che aumenterà la competizione tra atenei e quindi quell'orientamento al mercato che magari schiaccerà la nostra sensibilità verso quegli aspetti che invece noi vorremmo ancora avere sotto un controllo, un'osservazione e io qui uso, vedete tra virgolette, la parola osservazione non solo come un metodo appunto ispettivo, no? Non vogliamo ispezionare ciò che succede nelle nostre aule o relazioni didattiche ma vogliamo poterli osservare, cioè essere dentro un processo di comprensione richiamandomi ad esempio alla comprensione weberiana. Ora, chiaro che siamo un po' a metà strada, quella che ci aspetta nel post-Covid sarà una nuova era e quindi noi entusiasticamente ci butteremo da quella parte o cominceremo a provare nostalgia del come eravamo? Ovviamente questa risposta può essere data solo se riguardiamo al più, diciamo, esteso rapporto università e società che poi è al cuore del rapporto tra scienza e società di cui parlavo prima, no? La credibilità, la fiducia, la reputazione degli scienziati che hanno appunto, trovano nella comunità accademica il proprio principio di validazione ma una validazione interna che deve comunque poi trovare una corrispondenza esterna. Siamo veramente a metà del guado oggi perché se noi sapremo continuare a costruire, a conservare le buone frasi ovviamente ma se non sapremo comunicarle alla società è chiaro che questa famosa, diciamo, torre d'avorio, no? L'università è stata nominata con molte metafore quella positiva di ascensore sociale però anche quella negativa di parcheggio. Allora, qui siamo davvero a metà del guado sarà sempre di più un ascensore sociale quindi risponde a delle aspettative della società o continuerà o riemergeranno magari con più forza e più virulenza proprio gli aspetti opportunistici oppure gli aspetti, diciamo, involutivi dell'università come parcheggio. Io credo che sia molto bello l'idea che ricaviamo dalle parole di Andrea Messeri di cervello sociale. L'università potrebbe effettivamente adeguarsi alla metafora del cervello sociale cioè essere sicuramente il luogo dove si crea innovazione come avete detto, un laboratorio di sperimentazione se si riesce a fare dentro l'università si può fare, trasferire la sperimentazione anche nelle professioni però bisogna essere con le professioni insieme, vicini altrimenti si ritorna al vizio, diciamo, della autoreferenzialità che contraddice tutti i tentativi di innovazione, di riforma che noi stiamo intraprendendo bene o male bene o male, ripeto perché appunto la ambiguità di alcune operazioni è presente a molti da un lato un accesso universale all'istruzione professionale e dall'altro invece tutto il criterio del non sapere utilizzare in modo positivo il merito, il concetto del merito quindi la selettività. Allora, continuando questo ragionamento volevo arrivare al cuore della mia relazione che era costruire e costruire senso e ritrovarci nella relazione didattica il senso, secondo Andrea Messeri l'ho tratto dal suo ultimo contributo nel volume che riporta i bellissimi contributi del convegno sull'innovazione nell'università Andrea Messeri parlava di senso come un insieme vitale che è possibile avvicinare con la comprensione ma non si esprime in una verità assoluta quindi il senso va cercato giorno per giorno in un agire collaborativo e qui allora mi rifaccio al tema dei valori ancora magari sulla scorta del senso weberiano cioè è là dove i valori sono messi in discussione che possiamo ritrovare cioè andare a ritroso nel dove ci siamo persi il senso di quello che facciamo e forse ricostruirlo è chiaro che una crisi come questa non sta inventando nulla ma sta portando diciamo di più alla luce e anche con accelerazioni sempre diciamo che sfuggono al nostro controllo quelli che sono tutti i dilemmi i paradossi che abbiamo vissuto tra come dicevamo prima uguaglianza e verso eccellenza tra libertà di pensiero e nello stesso tempo responsabilità sociale tra autonomia e controllo tra provincialismo ed esterofilia anche questa è un'altra delle grandi diciamo crisi culturali che noi dobbiamo affrontare e naturalmente non sappiamo quale sarà la ricetta che permetterà di uscire dalla inerzia che il dilemma naturalmente pone allora una crisi di senso oggi mi stavo domandando in che modo può intaccare la docenza universitaria due sono secondo me i rischi e vado diciamo velocemente verso la conclusione anche del mio contributo io così pavento ecco un rischio di disgregazione di quello che appunto è il momento formativo accademico cioè un momento che si distingue da altri momenti formativi che cosa è formativo e che cosa non lo è di quello che io sto insegnando e di quello che io sto insegnando in un contesto accademico quindi che cosa è accademico e che cosa non lo è la appunto l'appiattimento in un certo senso delle interazioni mediate da computer ci fa temere di non essere più veramente riconoscibili perché riconoscibili come docenti universitari che si distinguono da fonti mere fonti di dati o di informazioni se ognuno può avere accesso ai saperi ai dati e se l'accesso è regolato da infrastrutture come le piattaforme che ne determinano poi o le modalità o il risultato beh insomma viene meno tutto quella diciamo carisma che sta dietro alla competenza accademica che non è solo l'aura di appunto esclusività e di eccellenza che viene dato in relazione a un privilegio e quindi a un potere oggettivo è proprio un qualcosa che si propone come un modello affascinante appealing da avvicinare da scegliere ci domandiamo quindi se la nostra competenza di docenti che va da quelli più giovani a quelli più esperti è ancora in gioco tocca le corde del nostro del destinatario di questa docenza quindi no tutte quelle capacità di improvvisazione oratori di fascinazione la chiarezza la clarity è una cosa incredibile come si acquista il mestiere di fare il docente universitario col tempo certo ma anche con le passioni che cambiano e quindi anche questa questa caratteristica cambia con la nostra con la nostra vita con le fasi del nostro processo di maturazione quindi questo dal punto di vista docente dal punto di vista sia docente direi che studente la il confronto quotidiano con gli schermi ed esclusivo con gli schermi o comunque preponderante ci porta a scegliere quotidianamente anche delle vie più brevi cioè di effettivamente assuefarci all'approccio di realizzazione che ci viene richiesta perché appunto le procedure si fanno vengono anche guidate dalle famose linee guida per risparmiare tempo ma conoscere una procedura è un tempo che si aggiunge alla invece improvvisazione o d'uso di altri tipi di procedure che sono già nella mente e nella capacità del docente e quindi abbiamo il sospetto che gli studenti siano potenzialmente meno engaged nella lezione naturalmente se vi partecipano ma anche noi anche il docente anche lo studioso solo con il proprio schermo perde diciamo quella funzione di riflessività che invece proviene sempre dal contesto e qui mi richiamo a una nozione di riflessività alla Dewey alla Schoen cioè una riflessività che è assolutamente imparare da quello che c'è intorno ma se intorno non c'è nulla la nostra riflessività trova effettivamente un ostacolo e vado veloce nel dirvi che questi dubbi sono già presenti in alcune risposte appunto a sondaggi per esempio il 45% degli studenti delle superiori intervistati sempre da Ipsos dice che fa fatica a concentrarsi il 33% non ha problemi di dire che si annoia e sappiamo che sono cifre sottostimate naturalmente e questa quest'altra distribuzione anche ci interroga perché questi sono dei risultati di una commissione interna di una commissione paritetica interna a uno dei più grandi atenei dove i dipartimenti di scienze politiche e di sociologia addirittura hanno 11.000 iscritti al proprio interno quindi parliamo di campioni comunque abbastanza vasti per quanto se vogliamo non statisticamente rappresentativi però noi vediamo che una domanda semplicissima ritieni che la didattica a distanza erogata sia stata formativa allo stesso modo di quella in presenza ecco noi troviamo che non arriviamo al 50% nel dire che formativa che cosa abbiamo perduto allora che cosa abbiamo perduto questa ci dice anche che gli stessi docenti credono di avere perduto la interazione con gli studenti e quindi manca proprio qualcosa che è al cuore della didattica al cuore di quello che noi poi chiamiamo la frequenza universitaria vale ancora l'idea che chi frequenta è diciamo più avvantaggiato anche il rapporto agli esiti respira quell'aria di libertà che il contesto accademico gli dà ecco mi avvio le conclusioni per dire che i problemi dell'università italiana non si risolvono con la didattica a distanza ma forse nemmeno vengono acuiti dalla didattica a distanza semplicemente possiamo dire che ci insegna qualcosa aumenta la nostra consapevolezza del rapporto tra la nostra performance e la performance degli studenti e il fatto che questo rapporto è mediato da almeno tre fattori seguendo ad esempio l'idea di Braxton e Niersi l'impegno dell'organizzazione cioè quanto c'è dedizione verso lo studente l'integrità istituzionale cioè quanto siamo coerenti nei valori che proclamiamo e in come li incarniamo nelle nostre piccole scelte quotidiane legate alla didattica e infine forse più importante nella creazione di un ambiente comunitario e mi avvio davvero alle conclusioni scusate dicendo che ecco a mio avviso possiamo cogliere l'occasione di questa pandemia per dichiarare senza timore così di apparire nostalgici che uno degli assi portanti di questa appunto paradigma relazionale è il feedback il feedback che non va solo nella direzione studenti che devono dire qualcosa al docente ma anche il docente che deve manifestare un ritorno allo studente chi studia il rapporto intergenerazionale sia nell'ambito della sociologia che della psicologia o della pedagogia dice che oggi non siamo di fatto di fronte a un nuovo patto intergenerazionale perché c'è una sospensione di quel conflitto fra le generazioni che poi aveva generato in precedenza il ritrovarsi l'alleanza educativa perché come anche sostiene Emma Naim per poter stabilire un nuovo patto tra generazioni bisogna che una generazione coltivi l'utopia anche a costo di uno scontro vero e proprio e oggi siamo invece chiamati a curare i nostri studenti che difficilmente ci si oppongono allora dobbiamo veramente ritornare a quei punti chiave che Messeri ci indicava cioè il bisogno di comunicare la capacità di farlo metterci anche appunto umilmente come richiamava Cavalli di fronte a questa nostra incapacità di per esempio suscitare il feedback andare avanti anche quando non c'è feedback da parte degli studenti e cercare quindi di evolvere insieme mantenendo naturalmente quella distanza che è la simmetria intergenerazionale che naturalmente è al cuore del problema e quindi chiudo assolutamente con alcune idee sul potere del feedback che come ci viene richiamato dagli autori che qui cito intendendo per feedback un tipo di discorso che anima la dinamica formativa e quindi può essere sicuramente il feedback più richiesto quello di correzione o di risultato pensiamo solo durante gli esami ma invece noi dobbiamo come dire gioire della presenza di un feedback quando arriva da solo spontaneamente o quando lo abbiamo noi suscitato che sia però anche un feedback di processo cioè dove ci si sta anche dicendo assieme cosa stiamo combinando qua in questo momento un feedback di autovalutazione quindi che misura la consapevolezza dello studente e forse per arrivare al livello veramente più alto e più fluido di feedback docente studenti e studente docenti che mette in gioco la personalità diciamo dello studioso che sta dietro al maestro io vi ringrazio e sono lieta di poter discutere di questi argomenti con voi perfetto grazie mille Maddalena per questa ricchissima e articolata relazione insomma ci sono tante cose da dire però io non voglio rubare tempo e quindi Loretta Fabri ha un po' il ruolo di discussant stamani le lascio volentieri la parola ok buongiorno a tutti e ringrazio anch'io la collega e colleghi dei contributi che ho scortato fino ad ora volevo iniziare anch'io con un omaggio ad Andrea Messeri che ho conosciuto perché ho iniziato a fare il progettore alla tutorato quando lui ha lasciato l'incarico quindi abbiamo avuto modo per anni e anni di discutere e di lavorare anche insieme credo che la cosa che più mi ricordo di Andrea è il costrutto di innovazione lui interessava in qualche misura che l'università fosse il luogo di promozione dell'innovazione sociale e civile della società quindi quando la collega parlava appunto di l'università come cervello sociale ecco questa è una grande idea il problema è vedere quanto e come ci riusciamo e a quale condizione è che io di questo ho proprio questo ricordo di una persona anche con cui ho negoziato ho avuto molti contraddittori ma abbiamo anche condiviso molte traiettorie e credo che quello che lui oggi ci chieda è non una celebrazione come tutti abbiamo detto e nemmeno un ripercorrere solo le sue idee ma vedere come le sue idee possono essere sviluppate perché tutti noi siamo storicamente fra virgolette determinati quindi quello che noi diciamo soprattutto noi diciamo così di una generazione più che adulta siamo pertenuti a come dire a vedere i cambiamenti delle pratiche universitari delle pratiche di orientamento quindi il pensiero di Andrea è un pensiero che ci invita a elaborare l'innovazione e avere l'orgoglio di appartenere all'unica organizzazione cioè l'università che può essere può essere da certe condizioni il cervello sociale della società ecco questo io lo devo molto al centro di appartenenza ad una istituzione importante che costruisce conoscenza e che da questa conoscenza è emancipativa poi sull'orientamento abbiamo come dire molte volte discusso l'orientamento oggi ha altri paradigmi altrettanto importanti e come dire lui rappresenta la genesi di alcune questioni che chiedono oggi proprio soprattutto ai giovani studiosi di essere sviluppati alla luce anche dei nuovi studi e delle nuove traiettorie ho ascoltato molto volentieri perché il mio ruolo di scusate di discussante quindi ho ascoltato molto volentieri il discorso della collega Maddalena Colombo e io ho alcune domande no? c'è più che alcune domande cioè mi sono mi ha fatto sorgere alcune domande cioè come che cosa stava succedendo prima della pandemia però sembra che la pandemia abbia boom cioè quello che stava succedendo dentro l'università prima della pandemia era il trovarsi tutti dentro una crisi va bene che poteva essere anche una crisi di sviluppo in cui ci dicevano signori miei la conoscenza che voi fornite non è sufficiente per i professionisti quindi come dire non è che ci diceva non serve ma ci diceva non è sufficiente per mettere in condizione i professionisti di avere quelle soft skill o quelle skill necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro questo era uno dei problemi a cui tutti noi stavamo tentando di dare una risposta va bene e ci dicevano anche che ci dicevamo anche che le università non avevano non erano luoghi ad alto tasso tecnologico perché questo è un problema bisogna dirselo cioè io avevo dei colleghi che avevano difficoltà a utilizzare Moodle va bene oppure la paura della registrazione quindi come dire il pre-pandemia era un problema che aveva a che fare con le nuove tecnologie cioè col fatto che molti dei nostri colleghi forse la maggioranza io parlo come ex direttore di un dipartimento e come presidente ora di un corso di laurea cioè il farsi vedere l'interagire la oggettivazione e la reificazione di ciò che succede in aula è un grosso problema per molti colleghi che io non giudico come dire conservatore almeno credo che siamo una comunità di apprendimento e che dobbiamo essere in grado di dirsi apprendiamo cioè come dire noi soprattutto io ho 60 anni quindi soprattutto alcuni strumenti mi mancano allora vado un apprendimento dai novizi ma non dico non mi pongo politicamente nella posizione di dire pro o contro le tecnologie capite che voglio dire perché in questo momento il mio problema è so usare i social e le tecnologie come dispositivi di innovazione e di pormi un problema può essere significativo un rapporto senza corpo ci sono tutte domande che mi sto facendo insieme ad altri colleghi come comunità che ci stiamo interrogando su questo ecco arrivo al discorso della didattica universitaria la didattica universitaria era la cosa quindi l'oggetto più focalizzato c'era una crisi sulla didattica universitaria perché la didattica universitaria era caratterizzata questo ce lo spostano a dire tutte le indagini da soprattutto una tradizione di lezioni frontali va bene dove si utilizzava soprattutto il mediatore simbolico ok e che faceva fatica a mettere avere delle pratiche degli esempi che come dove si dice dove utilizziamo le metodologie attive di sviluppo allora io le ho apprese cioè io mi ricordo 15 anni fa quando mi sono resa conto che non era più il caso di continuare in quei termini ho dovuto apprendere dalle colleghe che prima di noi e più di noi hanno questa tradizione e mi ricordo le colleghe degli Stati Uniti della Columbia University a dire che cosa significa organizzare il lavoro attraverso le metodologie attive di sviluppo se noi diciamo mettiamo al centro l'apprendimento diciamo una strazione diciamo come facciamo a mettere al centro lo studente come facciamo come dire a rendere una classe espansa perché Maddalena ha messo in luce questo fatto importantissimo che come dire la pandemia la dico grossa ma è un paradosso in realtà ci ha costretto a entrare volendo non volendo dentro un processo di innovazione indietro non si torna ci direbbe Andrea state a pensare che cosa significa questo tipo di innovazione non siate tecnograti oppure come dire luddisti ma elaborate il problema perché questo fa parte fa parte del vissuto degli studenti gli studenti hanno molta più confidenza di noi con lo strumento virtuale vivono mondi virtuali allora sta a noi decidere come utilizzarli cioè è possibile fare il laboratorio online a quali condizioni è possibile creare comunità virtuali tra studenti su temi specifici è possibile alimentare forum io vi dico che l'ho fatto ma l'ho fatto con l'aiuto di un mio collega giovane forse il prossimo anno sono in grado di farlo da sola però io vi posso dire che questi due anni sono stati per me estremamente trasformativi cioè perché me ne devo conto quanto era inutile parlare più di dieci minuti otto minuti e poi consentire loro di apprendere in aula ma come dire come dicono gli americani discutendo si impara cioè si costruisce conoscenza da qui l'idea dello studente ricercatore cioè lo studente che in aula rispetto ad un tema è chiamato a posizionarsi ecco io vi posso dire che la partecipazione è stata altissima per questo Maddalena tu hai dati io no capito che ti voglio dire quindi qui mi fermo ma come esperienza personale va bene è stata altissima non solo ma hanno avuto accesso tutta una serie di studenti adulti soprattutto donne va bene che non avrebbero avuto altro modo di partecipare ok oppure gli studenti le studentesse lavoratrici che potevano accedere se io ero disponibile a registrarmi e e questo io devo dire che sono una frustrata in questi due anni no tornerei indietro no cioè ho bisogno di pormi alcune interrogative ma le mie aule spanse cioè il poter avere essere in aula insieme agli studenti della Columbia University e consentire ai miei studenti di discutere insieme a altri colleghi ha aumentato l'uso della parola allora quando gli americani gli nostri colleghi negli Stati Uniti scusate quando sono stanca la mia disnomia peggiora e quando vedi aule dove ognuno ha il suo tempo per parlare cioè è necessario non solo che la parola non sia il processo del docente questo noi come vizio ce l'abbiamo a noi ci piace troppo parlare e ci piace poco ascoltare persone che sono in apprendimento che possono sbagliare e che hanno il diritto di errare con noi perché è una situazione protetta quindi io non so che cosa quale sarà l'università che università sarà dopo il covid però sono convinta che nessuno di noi potrà essere come prima questo perché è come dire i nostri e non lo uso in termini propri le nostre studentesse i nostri studenti i nostri clienti va bene hanno avuto un'opportunità in più e vorranno delle classi espanse capite allora noi semmai abbiamo giocato cioè non abbiamo voluto prendere atto come università pubbliche che il covid avrebbe invaso anche il secondo anno e quindi non aspettare aprire poi chiudere aprire poi chiudere organizziamoci fin dall'inizio se sappiamo che è chiuso va bene perché sia come tale e creiamo queste classi espanse perché su questo mandalena io ti ringrazio perché questa è stata la grande offerta formativa abbiamo provato il brivido delle università open ok e questo che ne faremo come ne faremo che tipo di professore universitario io non so voi io sono 30 anni che insegno anche più io da quando ho iniziato ad ora meno male che sono stata costretta costretta a non essere quel professore universitario che mi immaginavo di dover essere entrare in aula fare lezione uscire dare chi ha detto non so chi diceva stamattina del docente come giustiziere come colui che dà l'idea di giustizia di distributore di giustizia avere un rapporto asimmetrico ma anche simmetrico cioè come dire la didattica implica dei momenti di asimmetria ma anche dei momenti di simmetria dove vince chi ha più argomentazioni allora può darsi che uno studente ricercatore o un dottorando ci dimostrino che le loro argomentazioni sono migliori delle nostre ecco le aule come arene di costruzione della conoscenza io credo siano fondamentali fin dal triennio fin dal primo anno perché è un approccio ecco quindi questa idea di a me io ho sempre bisogno di costrutti ordinatori di classe espansa va bene di come dire continuità discontinuità contraddittorietà tra tecnologie tra approcci tecnologici e approcci in presenza questo è importante dirsi come fare l'altro problema che rimane e chiudo è quello della socializzazione ma questo non è un problema solo tra studente e docenti ma è un problema degli studenti pensate alle matricole ecco per me questo è stato un grande problema le matricole non hanno potuto sviluppare un senso di appartenenza poi mi dico dopo sei sbagli perché il tuo problema era come consentire alle matricole una socializzazione virtuale perché se non è possibile in presenza il nostro problema didattico è come creiamo una socializzazione che va di là delle lezioni che consente contatti diversi perché c'è chi si trova bene nei forum c'è chi si trova bene in comunità lettive c'è chi si trova bene con le mail chi ti vuole scrivere chi vuole su whatsapp allora come dire whatsapp a professori universitari mamma mia io devo anche impegnarmi in forum sì e qui me li faccio al tuo ultimo discorso Maddalena sull'epistemologia professionale di docenti noi siamo tra virgolette non siamo libri professionisti siamo studiosi e siamo ricercatori ma non siamo libri professionisti e se lavoriamo dentro l'università l'università è dentro questo quadro e noi non ci possiamo permettere io questo lo dico sempre ai miei colleghi di dire sì o no noi possiamo dire possiamo interpretare ma se c'è se questa è la tendenza nessuno può dire io non voglio mai registrare le mie lezioni o mettere 20 le lezioni registrate perché come presidente del corso di laurea se mi trovo di fronte la valutazione basse se ne devi discutere oppure diciamo come corsi di laurea siamo non presuntosi accademici va bene dove l'accademia si afferma l'accademia si guadagna secondo me Maddalena cioè quando ti hai fatto quella bella domanda che cos'è accademico e che cosa no ecco è uno è un processo capite voglio dire cioè che consenta lo so di dire sono dentro un'accademia questo sta a noi non sono uno studente che sto ascoltare a leggere i libri in biblioteca e poi ripetergli agli esami è qui l'assurdo l'esame si fa in aula in un caso i nostri colleghi stranieri lo fanno alla fine dell'ultimo giorno dell'esame ok chiaramente chiedendo allo studente di studiare in corso d'opera ok ma di non studiare da solo di studiare insieme agli altri e premiare questo lavoro perché è una skill in più ti riunisci lavori con persone che puoi andare d'accordo o meno e che che avete però lo stesso compito allora impara a gestire un gruppo di compito va bene allora io però apprezzo le ore che ti ritrovi fuori capite che voglio andare all'esame è un insieme di indicatori che io do vi la mi fermo però ringrazio tutti volevo ringraziare in particolare il professor Berlinguer io quando sono entrata era lui il rettore ma per le parole che ha detto sulla sede retina perché vedete anche anche sulle sulle insegnare a Siera e insegnare ad Arezzo ha lo stesso prestigio se te lo guadagni io dissi se te lo guadagni se il nostro dipartimento ha aumentato il 4 scusate ha aumentato le iscrizioni come dire è diventato il secondo dipartimento io sono come dire ho il diritto di sentirmi un accademico e tu non sei in grado di dirmi che non sono un accademico di serie B perché insegno ad Arezzo quindi io credo molto nel fatto che le cose ce le conquistiamo non abbiamo titoli non è il momento in cui i titoli ci dicono ci garantiscono sei un accademico bene puoi essere un pessimo accademico o puoi essere un accademico che prova a fare il suo lavoro nel mio limone ma oggi la qualità si giudica tanto sulla ricerca non a caso si parla di ricerca utile ricerca utile che non significa utile all'azienda ma che direbbe Messeri ricerca che è utile allo sviluppo della società questo mi direbbe Andrea guarda Loretta che tu devi produrre una conoscenza che è utile lui per una vita ha lottato perché l'università fosse questo poi se lo è non lo è se la rappresentazione dell'università la danno i rettori Marisa o la danno anche i gruppi informali è un altro discorso io credo che il compito di GEO sia anche quello di vedere le comunità dal basso non solo come dire i rettori non solo come dire gli stakeholder della governance c'è anche un movimento di innovatori che è che si costituisce in comunità che forse GEO deve intercettare ecco io questo mi sento di concludere con queste parole che lui mi direbbe cara Loretta sull'innovazione create tanti alleati i tuoi colleghi gli studenti la governance e partite dal basso e riappropriatevi e come di questo senso di appartementa all'università che è l'unico luogo dove si costruisce conoscenza socialmente validata ecco una conoscenza utile in questo senso grazie scusate no io ringrazio te e fra l'altro devo scusarmi perché quando ti ho dato la parola non ho non ti ho presentato ma è perché c'è un rapporto di amicizia tale per cui ho completamente saltato tutti i convenevoli però invece ci tengo che a ricordare che Loretta è professoressa ordinaria di didattica e metodologia dei processi educativi e formativi e quindi nel dopodiché tante altre cose anche coordinatrice del teaching e learning center del Santa Chiara Lab che stamattina è stato ricordato dal dal rettore e quindi credo che la tua presenza come di Scassans sia stata particolarmente importante perché Maddalena nella sua relazione ha toccato tutta una serie di aspetti importantissimi dal punto di vista dello sviluppo dei processi universitari io credo che entrambe in questo acceso come dire in questo acceso scambio e dialogo abbiate colto da punti di vista diversi anche un'annivalenza di quello che poi è il risultato della pandemia e dei tanti effetti prima Maddalena lo diceva molto bene noi siamo all'inizio così stiamo cercando di studiare facendo ricerca indagando su quello che è successo ma credo che molti effetti dovranno ancora essere studiati indagati perché penso che ci saranno degli strascichi enormi insomma anche rispetto per esempio a come cosa faremo come ripartirà il prossimo anno accademico insomma è vero che questa pandemia ha rappresentato un momento di frattura e quindi l'avete detto bene non torniamo più indietro ma cerchiamo di capire che cosa abbiamo guadagnato che cosa potremmo valorizzare e tesaurizzare forse qualcosa dovremmo lasciare perdere sulla didattica è vero ne abbiamo parlato tanto anche stamani però io credo che un piano di governance debba essere richiamato perché alla fine quando noi andiamo a fare un sunt una sorta di anche di valutazione di quello che facciamo di quello che siamo la didattica non ha nessun peso guardiamo anche alle abilitazioni nazionali cioè che si insegni o non si insegni come si insegni insomma il discorso è veramente molto molto complesso quindi vi ringrazio e andrei però avanti anche perché forse se riusciamo a tenere i tempi possiamo dedicare qualche spazio finale a interventi domande anche da parte della platea che sta seguendo fra l'altro con grande interesse allora io a questo punto introdurrei Marisa Michelini e la tavola rotonda quindi ci avviamo all'ultima parte della mattinata intanto un ringraziamento molto molto sentito che vorrei fare a Marisa perché insomma questo è un convegno organizzato insieme dall'Università di Siena e il Centro Geo che Andrea appunto aveva fondato con questa idea di di studiare e di provare a fare ricerca in un modo anche sistematico su questi temi che stamattina abbiamo abbiamo toccato abbiamo cercato di mettere al centro della nostra attenzione quindi ecco darei subito la parola a a Marisa direttrice di Geo e agli ospiti che naturalmente saluto e ringrazio per per la loro presenza e la loro partecipazione e poi avremo le conclusioni del nostro direttore grazie grazie a te Francesca questo questo convegno organizzato da Siena nell'ambito di quelli che erano già previsti come convegni di Geo doveva itinerare su Siena è diventato un momento importante ti siamo veramente grati a te e a Loretta che in Geo state condividendo le idee di Andrea e aiutandoci a portarle avanti allora noi abbiamo adesso io ho solo il compito di introdurre la tavola rotonda ho parlato questa mattina del contributo di Andrea in un percorso di riflessioni e approfondimenti che vanno dall'orientamento al tutorato le via di università a quella di cittadinanza fino all'ultimo contributo che abbiamo ampiamente discusso stamattina sul nuovo paradigma per l'educazione ho il piacere di dare la parola in questa sede agli amici colleghi tutti diversi tra loro con competenze diverse come voleva Andrea e che hanno approfondito insieme a lui e insieme in una comunità le varie tematiche ci parlerà per prima Anna Grimaldi sull'orientamento quindi Massimo Casacchia Anna Grimaldi dirigente di ricerca dell'INAP sull'orientamento e con noi da una vita Massimo Casacchia è stato tra i fondatori di Geo e dell'università psichiatra dell'università dell'Aquila e ci parlerà di tutorato Assunta Zanetti psicologa dell'università di Pavia anche lei tra i fondatori di Geo e infine Morena Sabella parlerà insieme presenterà il lavoro preparato insieme al professor Uricchio sulla cittadinanza che abbiamo condiviso insieme prima di dare loro la parola mi è doveroso dire cos'è Geo Geo è un centro di ricerca interuniversitario per lo studio della condizione vanile dell'organizzazione delle istituzioni educative e dell'orientamento fondato nel 2000 ed allora opera a sostegno delle strategie di sviluppo degli Atenei e in particolare sui temi dell'orientamento del tutorato dell'educazione civica e della didattica universitaria lo scopo di Geo quindi è realizzare momenti di approfondimento al servizio degli Atenei italiani mediante riflessione su esperienze per confronti basati sull'intesa come diceva sempre Andrea ne fanno parte ora le università dell'Aquila Bari Brescia Calabria Camerino Milano Bicocca Napoli Federico II Pavia Salento Siena Trento e Dudine Nel consiglio scientifico abbiamo Luigi Berlingue Massimo Casacchi Alberto Felice Dettoni Loretta Fabri Andrea Gavosto Anna Grimaldi Giulio Luzzato Roberto Moscati e Antonio Felice Aurecchio Ancora un minuto per ringraziare coloro che mi hanno mandato messaggi e hanno chiesto e a molti di loro sono qui presenti un saluto particolare Andrea dai rettori Betta Giovanni presidente della commissione didattica della Crui dal rettore Limone Pierpaolo dell'università di Foggia figlio del professor Limone del rettore Limone che fu membro di Geo per molti anni e Pinton Roberto dell'università di Udine inoltre il consiglio scientifico di Geo in particolare De Toni Alberto presidente della fondazione Crui manda i saluti e il segno di affetto ad Andrea al suo ricordo alle molte incontri e conversazioni che hanno fatto insieme inoltre devo assolutamente citare i colleghi che hanno mandato sensibili segni di affetto e di ricordo Abbattino Elio presidente dell'Ireda che è qui con noi Barillari Giovanni dell'università Roma Storvergata Paoloni Lorenza dell'università del Molise Chioffalo Marillu dell'università di Pisa Ghizzoni Manuela dell'università di Bologna Gabriella Gurva dell'università di Udine e Cantiglio Clementina dell'Unisalento e con questo tolgo la mia parola ricordando anche Marta Tasso che ha tanto voluto bene a Andrea nonostante l'abbia incontrato solo due volte quando lei è diventata segretaria di Geo e quando è venuta a Roma alla riunione che abbiamo fatto a Roma poi a tutte le altre riunioni non c'erano i fondi per farla partecipare ma gli è sempre stata vicino a distanza mandava messaggi mandava materiali rileggeva i suoi materiali ha sbobinato le sue relazioni ha preparato i video che Andrea ci ha regalato nei convegni in cui non è potuto venire la parola dunque adesso ai colleghi Grimaldi Casacchia Zanetti e Sabella ringraziandoli per questo contributo alla tavola rotonda grazie a te Marisa grazie a tutti a Francesca il tempo a disposizione non mi consente di poter rappresentare adeguatamente l'affetto e la stima che ho sempre avuto per Andrea e ho conosciuto Andrea molto molto tempo fa mi cerco lui e mi emozione ancora adesso al suo pensiero perché voleva appunto mi chiedeva una mano dammi una mano a innovare la ricerca sull'orientamento e da allora abbiamo fatto veramente tantissime cose insieme abbiamo partecipato insieme a tanti gruppi di lavoro e poi passo perché appunto il tempo non mi consente di percorrere varie questioni che pure mi piacerebbe tanto affrontare ma ci siamo promessi che ci sarà un incontro annuale in sua memoria e quindi ci sarà un modo di ritornare sull'argomento una delle ultime volte quindi vado subito a uno degli ultimi incontri forse l'ultimo misavicolo avuto con Andrea eravamo a Roma eravamo tutte e due molto scoraggiati sullo stato dell'arte della ricerca sull'orientamento che ci sembrava un po' essersi fermato e io gli raccontai allora quello che adesso molto brevemente dirò a voi che appunto volevo fare una ricerca sull'occupabilità in quanto l'occupabilità è un po' un must di tutte le politiche attive del lavoro in particolare dell'orientamento una buona azione orientativa deve favorire l'occupabilità delle persone e quindi gli dissi però su questa su questa questione c'è però una grande confusione Andrea perché l'occupabilità è un termine che è stato abusato se ne è parlato come sinonimo di occupazione oppure alle volte perché non c'è occupazione si è inventato questo termine quindi vorrei partire con questo e sarei molto contenta se tu potessi collaborare a questa ricerca INAP lui fu entusiasta della cosa e quindi purtroppo poi non abbiamo potuto invece portare insieme il progetto ma glielo voglio dedicare oggi con questa mia brevissima presentazione spero che voi vediate le slide che io condiviso le vedete? no 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 non le vedete no allora non fa niente andrò abbraccio se le vuoi mandare le posso presentare io forse il tempo non consente neanche questo quindi il progetto ha avuto come stato un progetto è un progetto molto lungo e complesso voglio porre enfasi a tre questioni una la definizione di occupabilità perché che significa occupabilità uno gli strumenti perché appunto poi la ricerca deve servire al paese deve avere un'utilità sociale quindi non mi basta soltanto la definizione ma devo assolutamente anche avere degli strumenti che mi consentano di misurare l'occupabilità anche per vedere se poi quell'intervento che io ho fatto relativamente all'orientamento ha portato veramente a un'implementazione del potenziale di occupabilità e la terza questione importante sono le pratiche operative perché appunto la ricerca deve servire poi ad avere una sua applicazione operativa nei contesti tanti contesti nei tanti contesti che fanno orientamento quindi la prima cosa è cosa intendiamo per occupabilità quali sono i fattori che la declinano da cosa è influenzata vale a dire qual è il modello che può declinare l'occupabilità l'occupabilità se ne parla da tanto tempo non posso naturalmente entrare nel merito ma ci sono tantissime definizioni molto diverse tra di loro e in particolare a seconda proprio della prospettiva culturale del ricercatore nel definire l'occupabilità viene data enfasi a volte di più al ruolo dell'individuo e alle sue risorse personali del capitale umano sociale e questa diciamo è un'occupabilità tra virgolette possiamo dire che pone enfasi agli aspetti individuali un'altra prospettiva culturale prende invece in esame il ruolo delle istituzioni quindi penso alla scuola all'università alle imprese e quindi si concentra sui fattori e sulle condizioni istituzionali che possono favorire lo sviluppo dell'occupabilità come se appunto l'occupabilità dipendesse molto da quello che può fare la scuola da quello che può fare l'università e quant'altro una terza visione più economista prende invece in esame il ruolo dell'ambiente esterno e quindi considera variabili connesse con l'occupabilità i trend macro e micro economici e le condizioni del mercato del lavoro il primo quindi primo lungo lavoro che noi abbiamo fatto è stato invece quello di definire un modello che potesse mettere insieme queste tre prospettive e abbiamo dato una definizione di occupabilità che la vede come l'intreccio tra quello che è la parte diciamo più personale dell'individuo quindi capitale umano sociale ma naturalmente non si può prescindere dalle variabili situazionali intendendo con questo sia ovviamente le condizioni del mercato del lavoro e sia quello che possono fare le istituzioni perché è vero che le istituzioni possono fare tanto per implementare l'occupabilità l'occupabilità ovviamente consente all'individuo di porsi e riproporsi nel mercato del lavoro e diciamo nell'ambiente dell'education con un progetto professionale che è avverente al contesto e che si pone quindi degli obiettivi che sono raggiungibili la la seconda il secondo filone di attività è stato quello di innanzitutto validare questo modello e per validare questo modello abbiamo quindi costruito due questionari che insieme riescono a dare una stima della appunto e danno proprio un valore un indice dell'occupabilità della persona le dimensioni che sono state diciamo validate su un campione di 6.000 persone dai 15 ai 30 anni e questa la scelta di questo target d'età veniva dal governo in quanto ci chiedeva di avere un occhio particolare alla fascia di età giovanile e quindi abbiamo privilegiato in prima battuta questa utenza quali sono queste dimensioni che declinano l'occupabilità la formazione le competenze la conoscenza e la fruizione dei servizi di orientamento dei servizi che possono sostenere quindi gli individui la partecipazione sociale quindi la cittadinanza attiva lo stato occupazionale la propensione alla mobilità la percezione che ho del mercato del lavoro la percezione che ho delle reti sociali e del sostegno percepito l'auto efficacia percepita nella ricerca del lavoro e più in generale nei problemi complessi l'adattabilità professionale e il covid una volta validato il modello come avrebbe appunto detto e sostenuto Andrea adesso dobbiamo però calarlo nella realtà operativa e quindi quali implicazioni operative nei percorsi di consulenza orientativa e direi anche non solo e lì il terzo diciamo step di questo progetto che ha visto la collaborazione di tanti soggetti peccato non è stato possibile quello di Andrea è proseguito quindi con la messa a punto di due percorsi un percorso di pratica proprio di consulenza orientativa che noi abbiamo sperimentato con i giovani che partecipavano al programma garanzia giovani con 600 giovani quindi non pochi e che l'abbiamo sperimentato quindi nei centri di orientamento del lavoro dell'università delle scuole è una pratica educativa pesco che invece è una pesco sta per percorso di sviluppo delle competenze per l'occupabilità dove abbiamo individuato quattro cluster di soft skills centrate su se stessi e quindi finalizzati alla conoscenza di se stessa sulla relazione con gli altri significativi e quindi centrate su tutte quelle competenze che sono di tipo relazionale sulla relazione con il contesto di riferimento e che quindi sono centrate alla conoscenza delle culture educative e formative ma anche del lavoro e sul compito quindi quelle competenze che mi consentono di fare un progetto che sono più operative questo percorso pesco su cui mi piace recitare GEO perché appunto abbiamo lavorato tanto su questo percorso con GEO e tanto appunto da presentare anche un progetto al Ministero dell'Istruzione che coinvolge le università di GEO e non solo e su questo appunto si sta sperimentando questo percorso in molte realtà il tempo non mi consente di appunto approfondire quanto vorrei ma rimango a disposizione se ce la facciamo per eventuali domande considerazioni e quant'altro grazie 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 moltissimo Anna allora adesso la parola a Massimo ci sei Massimo Casacchia sul tutorato Massimo la parola microfono ci deve essere un problema di proiezione delle slide ecco riprovo un attimo scusate sì sì riprovo un attimo ok ok andiamo qui è aperta perché non va adesso si vede no non si vede no va bene intanto che sistemiamo un attimo le le diapositive che erano abbastanza diciamo significative il mio è un misto di ringraziamenti di nostalgie di sensazioni di familiarità di amicizia non è facile sintetizzare il nostro stato d'animo avevo preparato qualche piccola qualche piccola slide ma vediamo se riusciamo a condividerla come appunto spero non so se adesso state vedendo qualcosa sì sì Massimo sta arrivando ecco adesso ci sono sì metti in prezzo perfetto grazie ok vado un pochino avanti perché capisco vi ho fatto già perdere due minuti siamo qui siamo qua in fondo io vi dico subito che la mia relazione è appunto è la è il la pipa di Andrea ecco i dintorni i dintorni sono il tutorato ovvero la centralità dello studente fra bisogni desideri e diritti e poi vi darò la soluzione a questo fatto che questa non è una pipa come sembrerebbe avete visto posso rivolgermi agli studenti perché mi viene più facile pensare che ci sono degli studenti che ascoltino quello che stiamo dicendo insomma avete visto cari studenti di sociologia oltretutto che fa bene anche a leggere i libri di Messeri ho letto questo libro formidabile il problema del potere e devo dire non so se eravate presenti che siamo stati tutti contagiati da Andrea io quando l'incontravo poi parlavo un po' come lui addirittura e quindi ecco come diceva anche altri abbiamo familiarizzato con concetti per me non familiari io faccio il medico faccio la psichiatra però tutto ho imparato a mettere alcuni concetti anche nella mia professione pensate e nel rapporto con gli studenti agire collaborativo interazione comunicativa linee di confine come punti di contatto riformismo partecipato e trasformativo e cioè osservanza dei doveri allargamento dei diritti una società aperta e pluralista questo già fa capire qual è la visione di Andrea nel riguardo del problema dei diritti anche di popolazioni studentesche fragili e poi questo famoso paradigma relazionale che quando sentivo Andrea me lo portavo dietro qualche volta e me lo sono anche sognato questo principio del paradigma relazionale capivo l'importanza di questo concetto l'avete già sentito della responsabilità ma non è sufficiente della corresponsabilità ed ero diciamo attratto da questo suo entusiasmo nel vedere lo studente ecco perché mi rivolga gli studenti oggi e in questo ruolo attivo critico negli organi di gestione dell'università gli studenti possono esercitare le loro opinioni anche con queste famose schede ministeriali però lui poi vedeva lo studente come avete già sentito però come persona che acquisisce delle competenze trasversali di vita scendendo in campo per la difesa non dentro un'aula universitaria scendendo in campo per la difesa di delitti negati attraverso azioni di volontariato questa era la sua idea però avete sentito Andrea non è che lui amava profondamente l'istituzione l'amava profondamente per cui aveva un po' deciso che non si dovesse sempre aspettare delle leggi per migliorare ma si poteva già fare che le parti interessate i docenti le università le istituzioni potessero confrontarsi questa è la sua regola per rendere la comunità accademica flessibile e innovativa diciamo che era abbastanza ottimista perché lui diceva che gli ingredienti ci sono tutti si trattava come in cucina di trovare delle buone ricette e non era facile trovare le buone ricette tant'è vero che questo concetto era già dentro vedete qua c'è anche qui Berlinguer e poi anche Lussato e penso che siamo a Brescia qua e già nel 94 pensate che familiarità che avevamo che fortuna che abbiamo avuto nel lavorare con Andrea referente per l'orientamento allora appunto c'era Rosso Limone di Università di Lecce e poi c'era per esempio Berlinguer io ricordo con l'emozione il famoso storico documento orientamento e tutorato a cura di Andrea Messieri e alcuni di noi erano abbastanza giovani ed entusiasti e c'era naturalmente in prima fila Marisa Michelini e Maria Assunta Zanetti e vi devo dire francamente che questo documentone mi interpretò in modo clamoroso ecco che mi rivolgo agli studenti che devono essere molto contenti di questa legge 341-90 pensate quanti anni fa 30 anni insomma in cui compariva per la prima volta la parola di tutorato era un miracolo per l'università e questo articolo 13 permettete di leggerlo così così gli studenti si sono contenti il tutorato era finalizzato 30 anni fa a orientare il lungo corso lungo il corso degli studi che cosa gli studenti a rendere attivamente partecipi del processo formativo e rimuovere gli ostacoli ad una proficola frequenza anche attraverso iniziative udite rapportate alle necessità alle attitudini e alle esigenze dei singoli incredibile e poi naturalmente la cosa più clamorosa è che poi l'articolo 12 diceva sì è compito istituzionale dei professori ricercatori di guidare il processo di formazione culturale degli studenti nella diacronia voi capite bene come il tutorato in questo modo è stato interpretato da Andrea e da tutti noi come non un atteggiamento paternalistico delle istituzioni ma come un insieme di attività di sostegno un po' l'avete anche sentito oggi alla crescita culturale formativa dello studente pensate però come parte integrante della didattica mi piaceva quando lui diceva che il tutorato era un dialogo uno scambio relazionale e poi il docente doveva essere una specie di allenatore un esempio di comportamenti etici di un riferimento solido per lo studente pensate che questa impostazione come rispecchiava già un inizio di un mutamento radicale di prospettiva nella realizzazione di processi formativi innovativi e lui insisteva sul fatto che lo studente doveva essere presente ma anche nella sua umanità nella sua storia con i suoi bisogni con i suoi desideri con le sue esigenze con i suoi diritti insomma avete capito come il tutorato poi quindi si fondava sul concetto che lui diceva gli studenti sono un bene prezioso per l'università un bene prezioso e quindi lo studente va accompagnato nella fase di accoglienza in itinere e poi come avete sentito anche dopo benissimo prima benissimo anche nel concetto di acquisizione di competenze di vita trasversali come si dicono ritenute importanti avete sentito prima benissimo per la famosa occupabilità ma Andrea Messelli capiva benissimo che i modelli di tutorato erano molto diversi allora lui aveva un po' il pallino della ricerca cioè aveva deciso di fare un'indagine di ricerca sulle concezioni e pratiche di tutorato nell'università italiane per cercare di capire quali erano gli aspetti positivi per poter fare una specie di via maestra per il tutorato per cui mi ricordo che avevamo fatto tre questionari in cui uno ve lo cito alla sinistra è proprio per gli studenti che in cui erano 25 domande studenti pensati sui bisogni di tutorato dello studente sento il bisogno di e lo studente diceva se aveva bisogno o no mi ricordo che una diceva sento il bisogno di essere di essere ascoltato nelle mie ansie e nelle mie paure riguardo al mio futuro c'era una domanda bellissima anche per quanto riguarda le ansie e le angosce del futuro insomma per cui poi a questo punto ci siamo riuniti all'acqua vi faccio vedere due slide poi insomma poi la finisco qua insomma due anni prima del terremoto ci siamo visti con Andrea e altri nel 2007 due anni prima del terremoto poi è arrivato il terremoto nel 2009 all'Aquila che ha distrutto praticamente mezza Aquila con tanti morti e mi ricordo che Andrea Masseri mi telefonava e poi ho capito che cosa significava essere avere un tutore come lui e di un sostegno come lui per cui ci ha insomma ci ha aiutato ad un atteggiamento di resilienza per cui mi chiedeva sempre ma come va lì all'Aquila come va dove stai dove vivi e questa resilienza l'abbiamo poi messa a servizio dei nostri studenti particolarmente confusi questa è l'Aquila pensata il 2007 18-19 maggio incontro di studio ricerca sulle concezioni e le pratiche dei tutorati che è stata un'occasione formidabile per parlare di questa bellissima ricerca che abbiamo fatto questo è il programma fatto in casa con Messeri io che ero padone di casa e vi ho presentato i risultati lui ha apprezzato molto la parte scientifica e però devo dire che poi ogni tanto quando ci rivedevamo diceva che aveva apprezzato anche la parte social questo era lui questo ero io qui c'è la punta assurta alcune persone che avevano partecipato alcune professioni dell'Aquila e poi lui aveva apprezzato tutto sommato anche la compagnia qui c'è Marisa qui c'è Maria Assunta qui mia moglie che ho organizzato un po' questa faccenda e questo è il famoso ristorante Ernesto che naturalmente il termo ha completamente distrutto un bel primo piano con Marisa un bel primo piano di Maria Assunta perché Maria Assunta perché poi faccio un salto di non so quanti anni ma tanti fate voi il conto per cui dal 2007 al 2019 Maria Assunta poi ha fatto questo bellissimo convegno sul tutorato come strumento di preparazione di un successo formativo che è un bellissimo titolo che la dice lunga sull'importanza di tutorato proprio come voleva Andrea Andrea provatore di Geo lo sto finendo la sua lezione e no lezioni perché oggi avete sentito quanti abbiamo potuto trarre ispirazione per il nostro futuro io ogni volta che incontravo Andrea imparavo qualcosa scusate me la rivendevo nella mia nella mia aquila un po' provinciale facevo sempre un gran figurone e quindi devo dire che Andrea con la sua visione innovativa che ho descritto brevemente ha permesso attraverso poi l'impegno di Geo di promuovere nell'università la cultura degli orientamenti tutt'orato orientamenti tutt'orato che sono ingredienti rilevanti nel sistema di assicurazione di qualità e il rapporto che voi conoscete benissimo di l'esame ciclico dei corsi di studio per l'accreditamento periodico dei corsi di studio ispirato dall'ambul al punto 2 si è scritto esperienza dello studente e contiene proprio la richiesta di resoconto sulle azioni di orientamento tutt'orato da parte di corsi di studio per cui saremo anche molto preparati quando verrà la CEV e le commissioni esperti di valutazione i quali ci chiederanno cosa avete fatto voi sull'orientamento e siamo pronti devo dire faremo anche una bella figura grazie anche ad Andrea l'ultima che è quella stessa che abbiamo condiviso con Marisa e volevo dire la soluzione di quella non pipa è che proprio la pipa esiste ed era sempre la compagna di Andrea quindi me lo ricordo con la pipa sempre lui alto alto con questa pipa che lo arricchiva e voglio appunto quindi finire con questa bella fotografia luminosa piena di vita e piena di nostalgia grazie 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 Massimo ci fai rivivere tanti momenti e tante sfide e tanti risultati adesso la parola ad Assunta Zanetti dell'Università di Pavia su l'idea di università un altro dei importanti temi di Andrea Buongiorno a tutti vi ho ascoltato con molto interesse tutto quanto è stato è stato detto sicuramente molti in questo momento molta emozione molti ricordi perché Geo nasce nel 2000 ma ci sono state delle riunioni in preparazione che mi avevano visto appunto sedere a quel tavolo sedere a quel tavolo con tutti questi devo dire per me professori che avevano già dei ruoli istituzionali importanti e trovarmi a discutere a parlare ad argomentare con Andrea che per me era veramente un maestro era e o è e lo sarà sempre mi ha insegnato tanto mi ha insegnato davvero uno sguardo una visione e mi ha dato anche la possibilità di imparare di imparare tanto come lui era sempre anche pronto ad insegnare per cui in questo momento ho solo tanta gratitudine nei confronti degli insegnamenti di Andrea e di tutte le persone che insieme soprattutto in Geo mi hanno aiutato a crescere quello che oggi io sono chiamata a presentare è un po' dopo l'orientamento dopo il tutorato la sua percezione la sua visione di università spero di riuscire a fare la presentazione avete lo schermo? si sta avviando grazie ok va bene? vedete lo schermo? si 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 innanzitutto volevo dire questo mi soffermo un attimo su questa immagine questa immagine che è un orizzonte ecco Andrea aveva un orizzonte ampio e forse ha dato tutto uno sguardo in orizzonte ecco qui già volevo ringraziarvi anche per questo questa immagine che mi ha dato proprio questo senso proprio di apertura e di condivisione strategia di sviluppo degli atenei è il tema che mi è stato assegnato allora in queste strategie di sviluppo degli atenei ho cercato di ripercorrere un po' alcuni documenti alcune riflessioni che avevamo insieme condiviso con Andrea e ho estrapolato alcune parole di Andrea parole che mi sembra però che anche chi mi ha preceduto oggi abbia già utilizzato una visione una visione in ambito educativo dove la comunicazione era al centro la dimensione relazionale la partecipazione la corresponsabilità tutto questo attraversato da una dimensione etica e valoriare ecco Andrea era e ha insegnato a me e penso a tutti un senso proprio etico della professione che noi siamo chiamati a svolgere e delle responsabilità che abbiamo nel portare avanti appunto la nostra la nostra professione tutto questo perché? perché queste strategie idee di università devono avere a che fare con che cosa? Prima di tutto con l'analisi del contesto lui è stato un attento osservatore un attento devo dire anche analista delle visioni e anche dei mutamenti che sono intercorsi per cui sicuramente questa diffusa sensazione di una frammentazione di realtà importanti la caduta appunto anche di alcuni modelli e di alcune appunto teorie ha sicuramente appunto creato in Andrea anche una necessità di arrivare a riorganizzare ritrovare quando noi preparavamo i convegni di Geo c'era tutto un lavoro di preparazione che devo dire con Marisa stiamo comunque portando avanti per cui il lavoro di un convegno è un lavoro in cui noi ci siamo prima confrontati su alcune questioni non abbiamo mai voluto dare delle risposte le risposte le abbiamo trovate insieme in un lavoro collaborativo in un lavoro che veniva partecipato con i partecipanti ai convegni per cui tutte i nostri anche le nostre produzioni scientifiche sono un risultato congiunto tutto questo appunto per evitare di creare di cadere in una individualizzazione eccessiva che sempre più appunto stiamo osservando e evitare anche questa crisi irreversibile dei legami sociali della morale dell'educazione crisi che sicuramente con la modalità e l'emergenza pandemica si è sicuramente acuita per cui oggi dobbiamo cercare di ritornare a dare questa dimensione di partecipazione che può avvenire attraverso un'innovazione didattica che si può anche proporre di avere una didattica a distanza che però non sia una didattica solo trasmissiva e su questo Andrea ha sempre messo molto l'attenzione per cui verso un nuovo paradigma per cui da un sistema strutturato a una frantumazione dei sistemi perché ultimamente lui diceva non usiamo mai la parola sistema neanche la parola reti ma parliamo di questa complessità complessità che ci porta appunto a una nuova concezione di un individuo autonomo relazionale questo cervello sociale di cui si parlava prima secondo me rappresenta davvero questo modello questo paradigma che lui ha cercato appunto di darci per cui un nuovo scenario un nuovo scenario che parte appunto da una nuova forma di democrazia deliberativa piuttosto che rappresentativa per cui l'idea era proprio quella di realizzare concretamente e tutti i momenti formativi convenistici di riflessioni che abbiamo avuto se c'era questa dimensione appunto dell'interazione comunicativa interazione comunicativa mirata all'intesa fra persone e gruppi diversi per cui la diversità è sempre stato un elemento appunto di valorizzazione per Andrea per cui questo nuovo cambio di paradigma in parte appunto io l'ho resi assunto in queste in queste brevi elementi dimensione sociale della didattica funzione e ruolo del docente nel proprio insegnamento dialettica relazionale studenti docente per promuovere relazioni positive proporre modalità sociali di partecipazione nuove e integrare la dimensione hard per cui l'offerta didattica proposta con i contenuti con le soft skills con il diventare dei cittadini e quello che Andrea appunto forse non ha avuto il tempo di studiare sono le life comp che sono diventate il nuovo profilo che a livello europeo noi stiamo portando avanti per cui il successo formativo non deve essere solo un successo accademico e già appunto ha messo molto l'accento massimo su questi aspetti aveva in mente lo studente con i suoi bisogni non solo di conoscenza ma soprattutto di crescita come persona e pertanto questo deve essere una responsabilità che come docenti dobbiamo avere per cui queste life comp che sono appunto le competenze chiave dell'apprendimento permanente che sono il documento del 2018 dell'Unione Europea ci consentono appunto ho voluto riprendere questa immagine di avere proprio di lavorare su tre dimensioni la dimensione personale che è la dimensione della realizzazione la dimensione sociale che è quella relazionale e la dimensione dell'imparare che va nelle culpabilità per cui chi mi ha preceduto sicuramente con i propri interventi ha dato sostanza a quanto viene qui preso il posto per cui questa corresponsabilità la corresponsabilità diventa la matrice per cui le università sono da essere in questa strategia che Andrea si era dato devono essere intese come un ambiente educativo e sociale che ha la responsabilità non solo di formare dei professionisti competenti insegnando dei contenuti disciplinari ma di educare le generazioni di giovani a nuove forme di cittadinanza democratica e quanto ne abbiamo bisogno di insegnare a vivere ai nostri giovani quindi qual è la strategia il compito dell'università è di contribuire la formazione di cittadini formando loro strumenti non solo scientifico culturali ma anche strumenti di conoscenza di sé relazionali per agire e stare nel mondo da protagonisti attivi e positivi quindi il compito delle nostre università è proprio prendersi cura grazie Andrea con questo voglio salutare questa è l'ultima fotografia che abbiamo scattato insieme e voglio ricordarlo così grazie molte Assunta ringrazio Morena Sabella dell'Ambur che ci fa questa relazione questo brevissimo intervento su la cittadinanza insieme grazie grazie a tutti buongiorno spero che mi sentiate non ho una presentazione al professor Auricchio in questo momento non è con me però abbiamo collaborato insieme vi porto i suoi saluti so che questa mattina insomma è stato con voi ho perso soltanto i saluti iniziali ma poi ho seguito tutti gli interventi e vi ringrazio perché credo che questo sia stato uno degli eventi più belli ai quali ho partecipato negli ultimi 18 mesi in questi 18 mesi diciamo in cui siamo stati tutti molto fermi molto a casa ma abbiamo incontrato forse più persone con questi con questi canali digitali vi ringrazio per insomma ho preso numerosi appunti di crescita personale e quindi vi ringrazio particolarmente il mio contributo prima di parlare un po' brevemente della cittadinanza di quello che abbiamo fatto innanzitutto volevo un po' girarvi perché la mia generazione è quella che si è trovata diciamo a vivere a usufruire di tutto quello che voi avete raccontato di questi ultimi trent'anni di questo cambio di paradigma per noi è quasi scontato parlare di tutorato di orientamento per la mia generazione degli anni 80 e in realtà voi insomma avete costruito questa complessità universitaria che noi ci ritroviamo e speriamo comunque di di non rallentare ma di continuare a migliorare all'interno di Amvor in questi 18 mesi sono stati 18 mesi di difficoltà anche per noi e quindi anche noi stiamo cercando sappiamo che non esiste una verità assoluta esistono delle buone ricette e stiamo cercando di trovare un nuovo senso e nuovi sensi e più direzioni porto l'esperienza soprattutto della didattica e della qualità della didattica in un periodo in cui stiamo ragionando anche sui risultati della didattica ma non tanto solo sui risultati legati a degli indicatori e quindi a delle quantità ma cominciamo a ragionare anche più sulla qualità dei risultati che è un tema molto complicato molto complesso e nuovo tanto che si comincia forse siamo nella fase in cui possiamo di nuovo introdurre un nuovo cambio di paradigma legato quindi a quelle competenze a quelle soft skills che tanto ci stanno a cuore e che sono comunque uno degli elementi più difficili in questa fase da organizzare da inquadrare e aggiungo quindi stiamo lavorando anche su un nuovo modello di AVA2 mantenendo però quell'esperienza dello studente e quindi il ruolo dei rapporti di riesame ciclico che insomma abbiamo già parlato precedentemente e che sono comunque un elemento abbastanza importante come ANVUR abbiamo avviato in questi mesi un'indagine anche noi sulla didattica a distanza e spero che quanto prima riusciamo comunque a condividere con tutta la comunità accademica i nostri risultati anticipo sicuramente a ottobre cercheremo di pubblicare il rapporto biennale che abbiamo comunque saltato lo scorso anno e quindi racconteremo anche noi i risultati di questo questionario ne abbiamo svolti due uno rivolto alla governance cercando di capire quali fossero state le linee guida degli Atenei ma abbiamo rivolto anche un questionario ai docenti ha partecipato all'incirca un 20% di docenti universitari stiamo in questa fase elaborando anche questi risultati ma anche noi vogliamo capire un po' quello che è successo in questo anno di pandemia e come sono cambiate le modalità di didattica ma soprattutto in un'ottica di centralità sempre dello studente e questo è un altro aspetto abbastanza importante e innovativo e un terzo elemento che non dobbiamo banalizzare in questo momento in cui non si torna indietro sono gli ambienti didattici perché ovviamente fare la lezione tradizionale è qualcosa che è cambiato ma anche l'ambiente didattico l'ambiente universitario è qualcosa che merita una nuova attenzione e non basta semplicemente che gli Atenei riescano in qualche modo a migliorare la digitalizzazione quindi delle aule e delle strutture ma bisogna ricordarsi che la formazione del docente è altrettanto fondamentale è altrettanto importante e che non può essere sicuramente uno degli elementi che dobbiamo dimenticarci e non possiamo neanche pensare che i docenti stessi prima la professoressa Fabri lo diceva ho fatto tante cose ma l'ho fatta anche perché ho avuto un collega più giovane più esperto di me che mi ha aiutato e che sicuramente il prossimo anno avrò quell'autonomia personale e professionale per poter quindi utilizzare alcuni strumenti per poter quindi fare da sola quindi le università dovrebbero comunque concentrarsi anche su una formazione del personale docente e arrivo all'ultima parte di queste riflessioni all'interno di questa riflessione che stiamo portando avanti da tempo sui risultati dei processi di didattica e quindi sui risultati non solo quantitativi i famosi indicatori contenuti nella SMA che poco anche a noi soddisfano perché comunque ci danno delle immagini abbastanza parziali e non sempre comparative perché anche quando si ragiona sull'occupabilità degli studenti bisogna comunque innescare dei ragionamenti anche regionali e territoriali che sono ben che sono ben diversi quindi stiamo ragionando sui risultati di apprendimento anche tramite il progetto Teco nel 2019 siamo riusciti a validare le prove di problem solving e di civics quindi di di cittadinanza e abbiamo avviato delle riflessioni anche su su questo aspetto abbiamo somministrato un questionario di 67 domande ma in realtà con una banalissima analisi delle componenti principali ci siamo resi conto che sono 4 le componenti principali fondamentali e abbiamo quindi rivisto il nostro questionario che abbiamo somministrato nuovamente tra ottobre e dicembre del 2020 sono in corso le nostre analisi ciò che è emerso dall'analisi delle componenti principali che sono 4 le componenti che particolarmente spiegano per noi almeno all'interno del nostro questionario del nostro framework la cittadinanza il senso di civics all'interno dell'università la prima l'abbiamo denominata come interesse politico che racchiude quindi la capacità dello studente di informarsi sulla politica economica e sociale del suo paese di discutere abitualmente di politica o di sapere argomentare e sostenere le proprie convinzioni anche con interlocutori che comunque hanno un orientamento diverso il secondo il coinvolgimento sociale la capacità no l'attenzione dello studente di partecipare abitualmente a petizioni a raccolte firme online a partecipare a manifestazioni cortei scioperi o anche utilizzare i canali social per quindi per condividere un pensiero prettamente sociale e politico ma anche legato all'ambiente un blocco di domande e quindi una componente importante riguarda il rispetto normativo quindi la capacità dello studente di saper rispettare le norme anche quando potrebbero quindi trarre notevoli vantaggi nel non rispettare queste o nel non quindi intervenire e agire nel rispetto delle norme generali anche là dove dei colleghi dei compagni degli amici o il contesto sociale invece infrangono le stesse e l'ultima componente è la partecipazione universitaria c'è la capacità degli studenti di vivere l'università di informarsi dell'operato dei rappresentanti degli studenti del proprio corso di studi e dei diversi organi universitari la partecipazione degli studenti alle lezioni delle rappresentanze studentesche e la partecipazione anche alle riunioni alle assemblee politiche ci siamo resi conto poi da un'analisi leggermente più approfondita e mi appresso quindi alla conclusione di questo intervento è che solo uno studente su cinque discute abitualmente di politica solo uno studente su sette partecipa a manifestazioni cortei o scioperi tutti rispettano le norme questo è un dato positivo però sulla partecipazione universitaria abbiamo diciamo i dati più deludenti perché solo l'otto per cento di questo campione di quattromila studenti partecipa alle riunioni alle assemblee politiche nel proprio Ateneo e soltanto il nove per cento ha quindi partecipato alle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo su questi dati faremo delle ulteriori riflessioni adesso raccoglieremo i dati degli studenti che hanno partecipato alla rilevazione tra ottobre e dicembre del 2020 con un numero molto più ampio di studenti quindi parliamo di ventimila studenti due settimane fa abbiamo somministrato il teco trasversale anche agli studenti di medicina di una ventina di Atenei e anche loro hanno risposto quindi al questionario sulla Civics quindi il nostro campione si aggirerà intorno alle 25 mila unità e cercheremo quindi di approfondire queste prime impressioni che noi abbiamo raccolto su questo mini campione di 4 mila studenti sempre perché riteniamo come agenzia che la centralità dello studente soprattutto all'interno dei processi della didattica siano comunque degli aspetti abbastanza importanti che dobbiamo ancora indagare analizzare per quindi per dare un contributo anche a delle politiche di coinvolgimento e delle politiche che comunque riguardano in modo particolare anche le competenze trasversali all'interno dell'università grazie grazie moltissimo bravissima Morena io ringrazio tutti della ricchezza dei contributi sul piano culturale e sociale un convegno ricco da cui ho imparato come in tutti quelli in cui c'era Andrea e questo lo richiama quelli in cui c'era Andrea che ci ha insegnato come agire in modo collaborativo in diverse comunità studenti docenti contesto ampio sociale un compito difficile portare avanti la sua mission e portare avanti Geo con una fondazione così importante che non sarà mai più riprodotta ma che proveremo a portare avanti perché lui sarà sempre con noi grazie moltissimo ancora anche a tutti gli organizzatori non voglio rubare altro tempo e lascio la parola alle conclusioni Francesca prego no in realtà la conclusione è tua direttore no io intanto ringrazio ringrazio ovviamente tutti i partecipanti ringrazio i membri di Geo per questa ricca tavola rotonda devo dire che è stata una mattinata molto lunga molto intensa sono molto contenta che ci sia stata una grande partecipazione e che si sia potuto proprio riflettere a partire da quelli che erano i temi insomma a cui Andrea ha dedicato un'intera vita però ti lascio veramente volentieri la conclusione grazie proprio due minuti la primo a nome mio personale tutto il dipartimento ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a tutti gli intervenuti a chi ha svolto relazioni che ha partecipato ascoltando e seguendo questa lunga mattinata ho visto a un certo momento sul calcolo sopra era oltre 100 persone erano collegate per sentire i nostri interventi e questo dà un segno dell'importanza di questa lunga mattinata io posso dire oltre a questi ringraziamenti ora sarebbe stato l'ora del pranzo a Arezzo per i relatori ma purtroppo ognuno poi è a casa propria c'è un posso dire solo mi sento di dire una cosa ho imparato molte cose ho imparato molte cose come imparavo da Andrea il mio mestiere è quello dello storico della filosofia ho imparato tante cose come ho imparato per anni frequentando Andrea la nostra idea abbiamo parlato di questo convegno tempo fa molto tempo fa in varie occasioni con Francesca con Francesca Bianchi io lo stesso rettore non era qui di fare un convegno alla memoria perché Andrea si sarebbe arrabbiato subito si sarebbe arrabbiato subito immediatamente e dovevamo fare un convegno sulla sulla pipa d'Andrea che voleva dire mi sono ricordato che ci fosse Andrea il dipartimento si sentiva subito ovviamente prima di vederlo nel corridoio perché era credo fosse l'unico che fumava la pipa però c'era una cosa che credo questo è stato importante questa mattinata Andrea credeva fortemente nella capacità della ragione umana di elaborare progetti era sapeva benissimo che affrontava temi i suoi temi cari da sociologo temi dell'orientamento tutorato erano temi complicati difficili ma sapeva benissimo che quel lavoro fatto con la ricerca una ricerca razionale empirica eccetera e tutte le sue iniziative volevano indicare uno scopo preciso uno scopo preciso è quello di intervenire con competenza in quelli che sono i processi sociali umani la dottoressa Sabella si ha detto che purtroppo la partecipazione politica oggi è molto limitata pubblica potete immaginare un vecchio sostantottino come me o come Andrea che aveva qualche anno più di me cosa avrebbe detto di tutto ciò sarebbe dispiaciuto ma avrebbe detto dobbiamo lavorare per cambiare le cose dobbiamo lavorare e scientificamente lavorare per cambiare le cose io credo che avendo lavorato stamani scientificamente insieme a Di Ricordi abbiamo portato un omaggio più alto che potevamo fare a un amico o un collega che non dimentichiamo ha dedicato tutta la sua vita a queste cose ha dedicato tutta la sua vita e stancabilmente a questi temi a questi problemi e così oggi alcune cose sono diventate assolutamente parte integrante nessuno si meraviglia più di orientamento tutorato o di ovviamente terza missione questo genere vedere valutare lo dobbiamo a lui lo dobbiamo al suo lavoro e a quello che fate grazie a tutti grazie a Francesca grazie a tutti gli intervenuti a tutti i partecipanti credo si parla io ripeto il prossimo anno sono in pensione ma ho sentito ventilare l'idea che l'appuntamento in nome di Andrea ad Arezzo non sia solo una cosa una tantum come quest'anno ma che possa vedremo cosa accadrà aspetterà soprattutto alle mie colleghe che rimarranno io ci sarò sempre dietro fuori ci sarò sempre dietro ben volentieri per il lavoro che abbiamo fatto perché è cambiato molto vi posso assicurare io ho cominciato la mia carriera universitaria 40 anni quasi più di 40 anni fa e le cose sono indubbiamente cambiate grazie a tutti buona giornata e andiamo a pranzo vado a prepararmi il pranzo e spero che sia avremo presto l'occasione di incontrarci insieme proprio in nome di quel sapere scientifico che un particolare ringraziamento al professoressa Colombo che si è fatto la relazione la plenary lecture del nostro del nostro cosa da quale abbiamo imparato che insomma certe cose non si sono indietro io sono arrivato da ultimo ma pare che anche il prossimo anno qualcosa mi si richieda pur essendo come si dice messo a riposo grazie a tutti buon lavoro e a presto spero veramente a presto grazie 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 direttore grazie francesca grazie a voi grazie a voi siamo rimasti pochissimi io sto cercando di uscire eh sì devi chiudere come vuoi sì sì no no è che mi sono tutto a posto grazie grazie a tutti ciao mi soddisfatta contenta sì 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 no mi dispiace che magari forse per alcuni è stata una cosa un po' lunga però d'altra parte non potevamo ridurre di più più di così non potevamo no no va bene va benissimo anzi quindi diremmo ciao 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 a tutti ciao grazie di nuovo a presto ora interromperò la registrazione a presto a presto a presto